Il video di riprenditi a due parti? Si Riprendo uno su e ancora senti il resto Aspetta il chino Eccolo Pietro Ho paura Mi sa lei te l'ha fatto il video L'ha fatto mia figlia Pietro Purtroppo devo leggere due pagine che abbiamo già letto Sulle auto elettriche Su questo investimento nelle auto elettriche Si sa che non ci sia la stessa dinamica che c'è nel togliere i contanti Ma c'è L'unico dubbio è perché allora hanno un prezzo ancora così inaccessivo Allora siamo qui stasera In pochi ma buoni Perché l'argomento è di attualità strettissima Anzi di strettissima attualità E cioè abbiamo problemi Di grande parte della popolazione di sopravvivenza alimentare Quindi problemi di urgenza assoluta E per fare questo Reale o indotta? Non ha trovato soluzione Reale o indotta? Cioè è reale perché è proporzionata E' indotta ma è del tutto reale No, che poi diventi reale non c'è dubbio Però per capire se era E' indotta Da un difetto di produttività Ma è chiaro che questa operazione del coronavirus Si inserisce in una strategia Pluridecennale, secolare, millenaria E adesso è diventato ormai internazionale Perché quello che succede in Cina Succede anche oggi Ecco, ho capito Ma non viene ripreso Non ti fa niente Ok, vabbè E quindi tutto si riconduce Diciamo la soluzione Il nocciolo del problema Per molti aspetti Anche se non è centrale in tutti Comunque è un elemento centrale In tantissimi argomenti Settori, campi, eccetera E in particolare appunto Quello rilevante di maggior spessore E' la fine del lavoro Abbiamo detto Che buona parte Del programma politico Della Costituzione La prima parte Gli articoli 1, 3 36, 43 Eccetera, eccetera Prevede appunto Che la Onorabilità di una persona Del individuo Deriva dal fatto Di partecipare Attraverso il lavoro Al benessere collettivo Il che non è più Neppure Lontanamente Pensabile E accettabile E quindi Partiamo da Una fase Diciamo abbastanza Diciamo Piuttosto avanzata Della lettura Del mio ultimo libro Che abbiamo già esaminato Fuori onda Ci siamo lasciati prendere la mano Come al solito Però Questo va riletto Almeno questo Per far capire A chi Vedrà il video Di che cosa Stiamo parlando E le modalità Che abbiamo Dedotto Da queste riflessioni Sia mie Che partecipative Da parte Degli altri Diciamo Presenti oggi Ecco La fine del lavoro Si può Sintelizzare in questo Prima Della rivoluzione Industriale Più del 90% Della popolazione Si occupava Di agricoltura Nella prima rivoluzione Industriale Le grandi massi Di lavoratori Lasciano L'agricoltura Per andare A operare Nelle fabbriche Nella seconda Rivoluzione Industriale Poi Le macchine E l'automazione Prendono il posto Dell'uomo Nell'industria Manifatturiera In particolare Ma non solo Ma non in tutto E le massi Di lavoratori Lasciano le fabbriche Per spostarsi Nel terziario E adottare Il computer Come strumento Di lavoro Ora siamo In corso Di una terza Rivoluzione Industriale Nella quale L'incredibile Progressione Della potenza Di calcolo Di moderni Lavoratori Pone in esubero Un crescente Numero Di lavoratori Attualmente Solo il 3% Della popolazione Si occupa Di agricoltura Ma grazie Le macchine Le macchine La domanda È ampiamente Soddisfatta Dalla copiosa Produzione E qui intervengono Anche i consigni Fimici Trattamenti Più o meno Ammissibili Lecidi Eccetera Come La gente Orange E così via Ma la domanda È ampiamente Soddisfatta Dalla copiuta Produzione A seguito Di questo La realtà Vuole che Le masse Di lavoratori Che escono Dal terziario Entrano a far Parte del mondo Della disoccupazione Non c'hanno Oggi purtroppo Altra collocazione Possibile In nessun Comparto Economico Quando Entro Dici anni Arriverà La quarta Rivoluzione Industriale Non sarà Più soltanto Una rivoluzione Industriale Che seppure Con qualche Sconquattro Sociale Era poi Nel giro Qualche anno Assorbita Questa Se non Ben gestita Sarà Il cavolinea Del genere Umano Non è Un'apoteosi Quella che dico Ma è semplicemente Una cruda E deglassante Reata Nelle catene Di monitoraggio Dei primi decenni Del ventesimo secolo Ventunesimo secolo Ogni operario Anzi Del ventesimo secolo Chiuso Scusa Ogni operario S'occupato Di un ruolo Ripetitivo E da bassa specializzazione La catena Produceva Un solo modello Di autoveicolo E il passaggio Su un nuovo modello Richiedeva Un ingente investimento Sulla catena Di montaggio Data la contestità Della catena Di montaggio I quasi Dei singoli Stati di lavorazione Erano frequenti Ed avevano importanti Ripercussioni Sul numero Di autoveicoli Prodotti Per unità Di tempo Nelle linee Linear Le autoveicoli Sono costruite Da Sofisticati robot Guidati Da un numero Limitato Di tecnici Con elevata Specializzazione Il passaggio A un nuovo modello Di autoveicolo Richiedeva Una più semplice Riprogrammazione Delle macchine La richiesta Di lavoratori Specializzati Ripone anche Un problema Di avere Pochi lavoratori Sovraccarichi Di lavoro E molti altri Bisoccupati O sottoccupati Si rossette Inoltre Una riconsiderazione Della globalizzazione Dell'economia E la rivalutazione Del terzo settore Ovvero Del no profit Applicato Ai servizi Di utilità sociale Qui si pone Il dilemma Ed è qua Il centro Il fustro Dell'argomento Tutelare Il posto Di lavoro O il lavoratore Ecco Le prossime Proposte La tutela Del posto Di lavoro Anziché Del lavoratore E però Anche la visione Del movimento Di certelle Un convinto Fautore Di questo approccio E' infatti Maurizio Gallegati Uno degli economisti Più ascoltati Da Beppe Grillo L'altra cosa Sottrediti Di cittadinanza Che di fatto Non è altro Che un sussidio Di disoccupazione Potente La società Globale Non è mai stata Tanto ricca Quanto oggi Non sarebbe Quindi ragionevole Che le società Ricche Distribuissero Una parte Della richiesta Dei loro cittadini Anche solo Di una Prospettiva Di investimento Sociale Per assicurare Una poesione sociale Più che mai Minacciata Una concezione Radicalmente Nuova Della solidarietà Economica A queste domande Rispondono In senso A fermo Di lo sostenitore Un repito sociale Garantito Di cui A cui si attribuiscono Numerosi nomi Reddito di cittadinanza Reddito sociale Reddito universale Reddito di esistenza Eccetera 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 Non neanche tutti Che sono tanti E il termine Di reddito di cittadinanza Ci sembra comunque Quello migliore Perché ha il merito Di inscrivere Il progetto Nel quadro Di una polizia Cioè Di una comunità Politica Data Come il diritto Come il diritto di voto Il diritto di reddito di cittadinanza Deriverebbe dal solo fatto Di essere cittadino Il principio è semplicissimo Si tratta Di versare A ogni cittadino Dalla sua nascita Dalla sua morte Un reddito minimo Che sia Incondizionato Inalienabile Uguale per ciascuno E cumulabile Con qualunque altro reddito O attività Senza altra Degressività Che quella Del sistema fiscale In vigore Un reddito Che c'è da tutti Può avere i ricchi Su una base Esattamente individuale E senza alcuna esigenza Di contropartita Il reddito di cittadinanza Come per il riconoscimento Politico Di un diritto incondizionato Alla sopravvivenza Materiale di ogni cittadino Rappresenta Un atto di solidarietà Che si esercita In permanenza A priori E non più Su richiesta E a posteriori Questo reddito È accordato Perché si esiste E non per esistere È un reddito di base Che ciascuno integra O no In funzione Dei suoi bisogni L'idea non è nuova Già Pradone Lo diceva nelle regi E non sto a quale citarla Pericle Parlava Insaurò La mistoforia Ristribuita ai cittadini Eccetera Diciamo In tempi Recenti È stata riproposta Da Tornasio Moro Nella sua Utopia Utopia Come preferite Ed altri E poi Due secoli più tardi Thomas Paine Che è Il noto Rivoluzionario americano Presente all'interno Della costituente Francese Della rivoluzione del francese Anche lei Lui aveva Diciamo In qualche modo Previsto Un Un reddito Diciamo Garantito Di 15 sterline A Uomo Che diventasse In età maggiore E altri Preventi Di vario genere Non so dire Nel secolo XI Aveva detto Che il primo Seno di giustizia Deve essere Garantire al popolo Un minimo Di crescenti Di ragione Del progresso Sociale E quant'altro E lo stesso Jacques Dubois Aveva Ditto Qualcosa A proposito Della teoria Dell'abbondanzismo E quindi Il reddito Sociale Eccetera Con suddivisione E quant'altro E Poi Successivamente Anche Altre teorie Infine Clifford Douglas Si era Convinto Che la natura Della produzione Industriale Combinata Con un monopolio Di creazione Monetaria Detenuto Dal sistema Mercario All'effetto Di creare Situazioni Di penuria Artificiale Per la maggioranza Della popolazione Che poi Coinvolge Tutta una serie Di Debolezza Da parte Contrattuali Da parte Della Grande massa Della popolazione In confronto Ai ricchi E Agli Stradicchi Tralascio Altre cose Ma Per dire Insomma Che Milton Friedman Pure Aveva Detto Qualcosa Di Analogo Ecco L'idea Di accordare Un Debito Minimo Garantito In cambio Da libertà Per i Trattori Lavoro Di Fissare I salari Al di fuori Di ogni Vincolo Legale Che è Legale Ad abolire Convenzioni Collettive E ogni Regolamentazione Del mercato Del Lavoro Riposta Negativa Costituisce In effetti Un sistema Di sovvenzioni Ai basi Salari Che invita Le imprese A usare Ed accusare Della flessibilità Del lavoro E a ridurre Le rieguidazioni Offerte Il che è esattamente L'obiettivo opposto A quello Dei Il regio Di filtrianza Che è Quello Che proponiamo Noi Tralascio Quello Che diceva Anche Jeremy Rifkin Attorno Agli anni Novanti In cui Osservava Che Malgrado La crescita Demografica Malgrado La crescita Esponenziale Demografica Perché Da 60 Oggi Praticamente Era Doppiata La Popolazione Mondiale Se non Anche Di più Aveva Detto Che A causa Della Automatizzazione Della Informatizzazione Robotizzazione Si Producano Sempre più Bene I servizi Con Sempre Meno Ore Di Lavoro Umano E Con Sempre Meno Uomini E Quindi Per Dire Che Il Volume Totale Di Ore Lavorate Ha Continuato A Riminire In Quasi Tutti I Paesi Sviluppati L'era Del Pieno Impiego Sembra Essere Terminata Ne Consegue Che La Distribuzione Della Ricchezza Tramite Il Lavoro Continua A Disgregarsi Quindi Occorre Pensare A Una Distribuzione Della Ricchezza Nazionale Attraverso Altri Canali E Altri Metodi E Invece I Nostri Cari Governi Negli Ultimi Decenni Hanno Continuato Imperterritamente A Trattare La Disoccupazione Come Un Incidente Passagero Che Era Ben Integrare In Attesa Del Pieno Impiego E Quindi Il Problema Centrale Smette Di Essere Quello Della Produzione Per Diventare Quello Della Sua Distribuzione In Tali Condizioni Si Tratta Infatti Di Sapere Come Un Volume Di Merci Sempre Crescenti Potrà Essere Assorbito Mentre Si Assista Una Riduzione Globale Del Potere D'acquisto Continuando A Crescere La Capacità Di Vendita Mentre La Capacità D'acquisto Diminuisce Quindi È Un Paradosso Qualcosa Di Insostenibile Bisogna Infatti Comprendere Bene Che Una Macchina Che Si Andrà A Sostituire Sopprimerà Il Lavoro Da Affettuare Non Di Un Posto Di Lavoro Ma Centinaia Di Posti Di Lavoro Dunque Centinaia Di Salari Contestualmente Anche Centinaia Di Migliaia Di Euro Che Non Rientreranno Mai Ne Più Nel Circuito Economico E Di Rarifazione Dell'Occupazione Delle Due Luna O Le Protezioni Sociali Sono Legate All'occupazione Con La Conseguenza Di Disuguaglianza Ed Esclusione Che Conosciamo E Le Protezioni Sociali Sono Legate Alla Persona E Ciò Che Deve Tradursi Come Minimo In Un De Garantito Si Passerebbe Così Da Un'economia Della Scarsità A Un'economia Distributiva Detta Anche Economia Delle Ricchezze Volute Dal Momento Che Esse Lo Erano Con Sempre Meno Lavoro Umano E Relativi Scassi Stipendi Quindi Essendo Incondizionalmente Distribuiti A tutti I Reni La Cittadinanza Su Gio Peraltro A Ogni Mercanteggiamento Politico E Non Indurrebbe Alla Frode Cioè A Crearsi Delle False Pensioni Della Nonna Morta Tre Anni Fa Magari No Che Invece Serve Per Sopravvivere Ai Nepoti E Così Non Ci Sarebbe Neppure Più Una Frode Morale Diciamo Così No Contrariamente La maggior Parti De Prestazioni Sociali Attuali Il Riconoscimento Del Carattere Sociale Collettivo Della Creazione Di Ricchezza Il Livello Di Produzione Di Una Società Incorpora L'apporto Storico Delle Generazioni Precedenti Quindi Non Solo Il Nostro Lavoro Ma Il Lavoro Dei Nostri Avi Dei Nostri Antenati Quelli Che Hanno Portato La Nostra Nazione Ad Delle Delle Generazioni Precedenti Quindi La Distribuzione Del Reddito D'esistenza Manifesta La Quota Di Produzione Che Rientra Oggettivamente Nell'ambito Di Questa Eredità Comune Una Eredità Comune Tuttavia Il Principale Pregio Del Reddito Di Cittadinanza E Che Rimetterebbe In Discussione Il Lavoro Salariato Come Base Del Capitale Dei Rapporti Sociali Con Il Reddito Di Cittadinanza Il Lavoro Salariato C'è L'unica Modalità Possibile Di Inclusione Sociale Nonché Di Socializzazione E Di Sopravvivenza Materiale Il Reddito Cittadinanza Permetterebbe Di Passare Dal Lavoro Subito Al Lavoro Scelto Non Un Lavoro Qualsiasi Perché Con Un Stipendio Di Fame Ma Che Mi Dia La Possibilità Di Mantenermi Ma Un Lavoro Che Io Voglio Fare Se Voglio Farlo Perché Nessuno Mi Obbliga A Lavorare Ed Lì La Differenza Perché Ci Sono Le Macchine Che Lavorano Per Me Lavorano Per Noi Costituisce Un Consideribile Progresso Sociale Della Nostra Autonomia E Che Favorisce L'uscita Del Capitalismo Salariale A Vantaggio Del Lavoro Autonomo Così Come Un' Economia Rilocalizzata Integrante La Dimensione Ecologica È Orientata Verso Lo Sviluppo Umano Lavoro Scelto In Un' Sviluppo Operativa E Conviviale Si Tratta In Primo Luogo Di Sconnettere Il Lavoro Dal Reddito Ma Anche Sconnettere Il Lavoro Dall'occupazione Quindi È Un Duplice Binomio Che Va Scisso Va Tranciato Non È Più Così Ma Anche Scoletti Lavoro Dall'occupazione Dato Che La Riduzione Del Primo Alla Seconda Sfocia Nell'esplosione Di Coloro Che Sono Primi Di Occupazione Nella Paura Della Disoccupazione Tra I Salariati E Nel Controllo Sociale Degli Assistiti Come Succede Adesso Con Il Cosiddetto Repito Cittadinanza Una Cazzata Abominevole Che Più Oceno Penso Era Difficile Sarebbe Oltre che Procura Ancora Una Volta E' Importante Non Confondere Lavoro E L'occupazione L'occupazione Ecco la Definizione Datta Non è Altro Che Il Lavoro Divenuto Merce Contrattualmente Sottomessa Alla Tutela E All'esigenza Di Dondatore Di Lavoro E Il Prezzo È Determinato Dal Mercato E Non Più Dal Rapporto Negoziale Tra Sindacati O Fra Cittadino Professionista A questo riguardo Il reddito Di cittadinanza Contradisce L'idea Dominante Che La lotta Contro La povertà Passa Attraverso L'occupazione Il che E' Abbastanza Illusorio La povertà E' Infatti In primo luogo Una faccenda Di reddito Il reddito Di cittadinanza Rappresentante Un cambiamento Rappresenta Un cambiamento Nella distribuzione Dei redditi Un nuovo Sossidio Sociale Redditi Tributivo Che va A giungi Sossidio Ad altri Ma in realtà È lo stesso Sostentamento Dovrebbe essere Centrale Non il lavoro Quindi Devianti Gli articoli Sono devianti Gli articoli Della Costituzione Che parlano Della centralità Del lavoro La centralità Del lavoro Parla Del periodo In cui E' Emanata La Costituzione Della Situazione Sociale Economica Industriale Eccetera Eccetera Salariale Sindacale Eccetera Che c'era Nel 1950 1947 48 50 Ma Da 50 Adesso Siamo passati Non nell'altro mondo Nell'oltre mondo E quindi Quello che valeva 50 70 anni fa Non è assolutamente Più affine A nulla Di quello che è La realtà sociale Economica Industriale E politica Ovviamente All'idea Di reddito Di cittadinanza Sono state mostre Anche numerose Obiezioni Alcune Sono obiezioni Morali Altre Obiezioni Economiche E alcune Riguardo Del principio Stesso Del reddito Di cittadinanza Molte Concernano La sua Fattibilità In particolare Il suo Finanziamento E poi Entriamo Nel mezzo La critica Morale Si fonda In generale Sulla vecchia Idea cristiana Secondo La quale Il lavoro Considuisce Il destino Obbligatorio L'umanità Dopo il peccato originale Questo ci hanno raccontato Per le teste Di cazzo Di predi Per Minimo 60 anni No? È vero? No Non ti fai Le segreti Per di la vista Ugale A voi Non ve lo dicevano A noi Mi ha scritto Ci ve lo dicevano Però La tecnologia Non possono Più dire Allora 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 Diceva Allora Allora La critica Morale Si fonda In generale La vecchia Il destino Obbligatorio L'umanità Dopo il peccato originale Chi non lavora Non mangia Diceva San Paolo 2000 anni fa Ovviamente 1950 anni fa Vabbè La critica Secondo cui Il rendito Cittadinanza Trasformerebbe Tutti i cittadini In assistiti In nulla facenti Sfaticati Smidollati Raccorzando L'idea Che essere Cittadino Vuol dire Essere Un avente Di rito Non è più Accettabile Il reddito Di esistenza Non è Assistenzialismo Perché Una volta Punito Del necessario L'individuo Prova Il bisogno Di agire Di realizzarsi Ma L'obiezione È più Comune Riguarda Evidentemente La fattibilità Del progetto Il reddito Di cittadinanza È vitale Dal punto di vista Economico Finanziario E come finanziarlo Il suo ammontare Deve essere Indicizzato Sull'inflazione Ma bisogna notare Che non è Inflazionistico Perché segue L'evoluzione Del reddito Nazionale L'introduzione Del reddito Di esistenza È riconducibile A un semplice Problema Di ripartizione De richieste Esistenti Non è che bisogna Creare altre Esistenti Non bisogna Capitilizzare A nome di Pochi Fortunati Superricchi Nei compiti Che sono stati fatti La fonte di finanziamento Più frequente Allegata È il trasferimento Dalla parte dei fondi Oggi Assegnati La protezione sociale Nel sistema Di reddito Di cittadinanza Questa protezione Non ha più Infatti La stessa ragione D'essere Il reddito Di cittadinanza Si sostituirebbe Alla maggiorità Dei meccanismi Distributivi E degli aiuti Sociali Attuali Minimi sociali Assegni familiari Sostituiti per alloggio Consiente familiare Applicato L'importo del reddito Supplemento familiare Di trattamento Premi di occupazione A zone reale d'aste Darifazioni sociali Sovvenzione agricola Eccetera Eccezione fatta Per la Previdenza sociale Che è un'assicurazione Non un sussidio Cioè è stato pagato Da quello che lo riceve E non da tutta La collettività Per l'assicurazione Contro la disoccupazione È un'assicurazione Per l'assicurazione Per la disoccupazione Contro la disoccupazione Certe aiuti All'alloggio I sussidi Agli handicappati Eccetera Bisogna quindi Qui ricordare Che secondo L'insea L'insee La prestazione sociale Rappresentano Da solo Circa il 40% Della spesa pubblica Ossia circa 400 miliardi Di euro A valore 2007 Su questo totale Il volume Delle somme Ridistribuite Supera 337 miliardi Di euro L'anno Il totale Troppo lungo Non è caso Di entrare nel dettaglio Andiamo oltre Si potrebbe inoltre Sostenere Che nel contesto Di una progressiva Rarefazione Dell'occupazione Il capitalismo Potrà sopravvivere Solo Mediante Una distribuzione Del potere D'acquisto Che non corrisponde Più al valore Di un lavoro Il re di cittadinanza Sarebbe allora Il mezzo Per continuare A favorire Il consumo Di merci prodotti Per trarere un profitto Perché se no Gli industriali A chi vendono Se gli umani Vengono mestromessi Completamente Dal ruolo del lavoro È chiaro Non c'è Un re di cittadinanza Una prima fase Del piano del scritto È il processo Che vede Un ritorno In patria Almeno parziale Di produzioni Precedentemente Esternalizzate Cioè Quelle in Cina In Cambogia In Donete Eccetera In pratica Si assistono A un rientro Degli investimenti Di aziende italiane Che creano Nuovi impianti O esternalizzano La produzione Affidandola A tessisti Sul territorio Si tratta Soprattutto Di aziende Del sistema Moda Tipo Gruppo Benetton Ad esempio Che ha riportato In Italia Una piccola parte Di quella produzione E lo ha fatto Lasciando Una nuova linea Di maglioni Basic In lana Merino E cash Per il marchio TV 3100 La produzione Sui 200 mila Maglioni All'anno Ha comportato Un investimento Di circa 2 milioni Di euro L'iniziativa È stata possibile Grazie alle nuove Tecnologie Messe a punto Dall'azienda Giapponese Shima Seiki Tecnologie Messe a punto Che realizza Macchine Per la lavorazione Di capi Completi Senza Cofiture Che permette Abbattimento Di costi Attraverso La drastica Ricunzione Della mano D'opera Scusate Pronti Si Scusami Ma è arrivato Qualcuno Sì Siamo in 7-8 Accidente Succede Sì 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 Ma siamo qui Saremo qui Almeno un paio d'ore Ancora Vabbè Se vuoi Vieni No No Dai Non ti preoccupare No Ma se tu sei riuscito A fare qualcosa Sì Siamo andando avanti Siamo andando avanti Sì Ma bene Va bene Se ce la fai Vieni No Lo pazienta Dai 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 Ormai Siamo No Qua ha fatto Un po' di buoni Nient'altro Giuro Giuro Ci metto le foto Ma Giuro Ci sentiamo dopo Se ce la fai Dai Ciao Ciao Scusate Non lo so Vediamo dopo C'è stata una tromba d'aria Dove? A Riniano Flaminio Dove era arrivato? Flaminio Ah ecco Dove eravamo primo? Altraccio La seduzione Da manodopera Tralascio Altro Perché Altrimenti Ci dilunghiamo Un po' troppo Per arrivare poi Alla cambiata sociale Effettiva Ah ecco Questo è importante Il modello di economia competitiva Rapace Ed accentratrice Della moneta debito Si sta dissipando Autodistruggendo E portando nel bar Tra con sé Intere nazioni In virtù della logica Generalizzata Dell'interesse Che si applica Alle monete E di fatto Sta sbogliando Derubando E impoverendo Intere economie Nazioni E generazioni Eh Stai scendendo Quella lì La lampada lì E' accesa No quella Questa qua Tutti due E' accesa Sì sì S'è una faccia di l'accento Spostando ricchezza Da chi l'ha prodotta Realmente A chi invece La riscatta Solo avendo Prestato denaro Non valore Ma valuta Metri adatti Per misurare Il valore Questo è il vero Abominio Del nostro tempo Aver adottato La mappa Come vera E non il territorio Di cui questa E' solo La schematica Idealizzata Rappresentazione Questa precedente Consentazione Ci porta a Reflettere Sul fatto Che è necessario Formare La nostra Estrenuante Corsa Per ricominciare A vedere Il mondo Sotto il profilo Ideale Filosofico Con al centro L'uomo E ci apparirà E' una situazione Spregevole Schiavistica E colpevole In questo sistema Che ha spiegato L'uomo Al lavoro In batteria Come una stia Di bolli Che da Perché non riesco a leggere Che sia di bolli Che da sfruttare Fino all'ultima Buccia di sangue E del suo tempo Il mondo si cambia Cominciando a pensare Di nuovo Ognuno E' ciò che pensa E se si continua A pensare Sempre le stesse cose Si faranno sempre Inevitabilmente Le stesse cose Che si otterranno Sempre Le stesse Disfruttate Ovviamente Lo studio Del concetto Del tempo E' importante E quanto il valore Qualunque valore E' solo Una diversa Estensione Del concetto Di tempo Se non ci fosse Il tempo Non ci sarebbe Neppure il denaro Ed altro Di ben più importante I nostri antenati Hanno concepito E definito Il senso del tempo Passato Presente Futuro Determinando Il concetto Del valore Che viene dal passato Una gara Un museo Un'opera La torta della nonna Addirittura una concubina Per poi spenderla O utilizzarla Nel presente E nel futuro Sono tutti Potenziali Tra virgolette Valori Ma è solo L'uomo Che in previsione Dell'utilizzo Ne determina Il valore Più o meno Rilevante Nell'evoluzione Del tempo Ormai E' emerso Chiaro E inconfutabile A tutti Che questo sistema Economico Nazionale E internazionale Contradistinto Da tagli Di investimenti Spese Spese La sviliscono Che stanno Guardando I bilanci Economici Nazionali Per mantenere Sotto controllo I debiti Ossia interessi Dovuti Alle banche Private Mentre distrugge Ogni diritto Sociale Individuale Manda La deriva Il nervo Migliore Della società E dell'impresa Insomma Non è Alla lunga Sostenibile Socialmente Viceversa Vengono Occultamente Sostenute Le produzioni Di intere Filiere Economiche Inventate Di sana Viata Senza Altro Scopo Se non Per far Generare De Nato Ad uso Di Amici Degli Amici Dicasi Supporto Per Corrigiamento Dell'immigrazione Contrastata E al contrario Agevolata Dall'altra Parte Queste inutili Filiere Evolutive Servono A generare Consumatori Lobotomizzati Sia Nazionali Che Indicati E a ridurre I nostri territori A discariche Di immondizie Di materiali E morali Che in futuro Si sarà Costretti A purificare Questo sistema Di potere Che ha Sostrato Lutto Sullo Sfruttamento Del lavoro Umano E dell'ambiente Non è Sostenibile Nel futuro Ed i sistemi Attuali Informatizzati E automatizzati Hanno divorato I cosiddetti Posti di lavoro Pretendere Lavoro E Follia Il perseguimento Sostenibile Nella sua Creazione Secondo Le antiche Regole Il segno Di imbecilità E crudeltà Insieme Basta Una minima Riflessione Per capire Che Uno Aumentando Costantemente La popolazione Tra dieci anni Raggiungeremo Dieci miliardi Due Arrivando Sempre più Disperati Che opportunisti Che osservano Che saranno Competitori Nel residuo Mercato Del lavoro Tre Se la tecnologia E la scienza Adiminano Sempre più Corsi di lavoro Anche nel lavoro Intellectuale Utilizzando Android Coscienti E auto Riproducenti Quattro Diminuendo Costantemente Il numero Dei impiegati Con reddito Sempre meno Saranno quelli Che potranno Permettersi Di comprare Qualcosa Quindi Non è la ricchezza Che manca Non sono i prodotti Che mancano Sette Non è la voglia La capacità Di persone Di lavorare Oltre Non è la tecnologia Le risorse Che mancano Nove È l'intenzionale Mancata Di distribuzione Di ricchezza Con equità E dignità Che principalmente Determina L'attuale Situazione Di crisi Una Plutocrazia Gerontocrazia Di banchieri Stringe il capio Al collo Del mondo Nel debito E negli senti Per gestire Il potere Sempre più Dispaticamente Ecco perché Noi proponiamo Il regno Di cittadinanza E tutti gli stati Saranno Passeretti Quanto prima Dallostarlo Continuare A legare La dignità Della vita Con il posto di lavoro Salariato Non ha più senso Il modello Di economia Accentratrice La moneta debito Ormai Si sta autodistriggendo In virtù Della logica Dell'interesse Che si applica La moneta Di fatto Sta riducendo In servitù Intere nazioni La risposta Si può trovare Soltanto In una nuova Intelligente E virtuosa Forma Di economia Riduzione Di consumi Riciclaggio Recupero Disparmio energetico Prodotti a chilometri zero Riversificazione Del modello di vita Massificazione Nell'utilizzo Di energie pulite Rieducazione Tramite la scuola Della popolazione Alla conoscenza E coscienza E responsabilità Capacità critica La sabbatizzazione Comportamentale Le varie associazioni Che si autorizzano Solo un fronte O solo un'idea Ad esempio Il granito di zero Agiscono bene Ma sono perdenti Se non cominciano A capire Che bisogna Lavorare insieme E come si sema E su tutti i fronti Non solo Ma il primo fronte In assoluto È quello del denaro In quanto ogni cosa Si fa nel tempo Ed il valore nel tempo Si sposta solo Con il denaro Tentare di fare Sbarbio energetico O desrescita E con un'altra iniziativa Deve se preoccuparsi Della moneta debita Significa non avere Capito il problema E quindi non sapere Come risolverlo E questa comprensione Del problema Si riduce ad un unico Principale concetto Cioè Tutto il male Nasce nel Non voler riconoscere Il diritto di proprietà Del valore Di ciascun uomo Diritto di proprietà Ognuno ha il diritto Di proprietà Di se stesso Del proprio valore Delle proprie virtù Delle proprie deficienze Di tutto quello Che riguarda L'animo Di quel determinato individuo Un'idea Che dobbiamo scomprare Dalla mente È quella di continuare A utilizzare qualcosa Di dimensionalmente Grande Barche Magazzini Compagnie Filiere Eccetera Ormai è dimostrato Tutto ciò Che è grande E grandemente Corruttibile Più una comunità Più un'azienda È piccola E più è molto gestibile Anche nell'emergenza Gli artigiani I piccoli imprese I piccoli coltivatori I piccoli paesi Le piccole banche Cooperative Locali Sono Riformate Ovviamente In altri termini Sono maggiormente Performati Ma Sopra ogni altra Diflessione Corre evidenziare Che mentre Qualche decennio fa Era necessario Tutta una serie Di vincoli Tecnologici Avere apparati Industri Di grande dimensioni Oggi non è più Obbligo necessario Nel momento Della massima Automobilizzazione Industriale L'unica via Che rimane All'uomo Creare economia Parallela Il tenese Per quanto grande Possa sembrare E piccolo E la gestione Dei territori È una questione seria Di sopravvivenza Tutto quanto Premesso Per affermare Che occorre Che occorre un nuovo Modello di economia Che parte Da un nuovo Modo di pensare Che non è quello Della vita Umane Condizionata La moda Deciso Dall'arido Capitalismo Abituato a considerarci Autonomi Umani Quindi il lavoro Ecco Ecco una cosa importante Possiamo parlare Di Questo magari lo rivediamo poi dopo Allora ecco Cari amici La soluzione c'è Bisogna solo Crederci E provare Di percepire Una visione superiore E soprattutto Capire Dimostrare Che si sta Dalla parte Dei cittadini E non mai Dalla parte Delle banche Della finanza Non basta Lamentarsi Che lo Stato centrale Ha fatto Solo tagli O rapine Bisogna capire Perché l'ha fatto E se si possono evitare E come Per il futuro Quei tagli Rapine Per varie azioni O meglio Soverchiarli Oggi Quindi non siamo Soltanto in competizione Con le varie Delocalizzazioni O anche La mancanza Di filtri Doganali Per merci Provenienti Da paesi Particolarmente Aggressivi O anche I flussi Migratori Che pervengono Da paesi In urgenza Demografica O in guerra Per cui siamo Altro aspetto Di gente Che fugge Dalla miseria Da carenza Di lavoro Che una volta Giunti qui Da noi E' disponibile A svolgere Qualunque lavoro A qualunque prezzo No C'è di peggio Molto peggio Siamo alle soli Di un dominio Non solo L'informatica Telematica Ma anche Una conquista Del mondo Da parte Di una nuova etnia Quella dei robot E presso Anche quelle Dei robot Androidi Questo L'aveva già Molto ben intuito Sia pure Non pienamente Sviscerato Immanuel Kant Quando parlava Di rapporti Tra Golem Ed umani Argomento Poi affrontato Successivamente Da Isaac Asimov Preveggendo Di quasi un secolo Quello che sarebbe Poi Ai nostri giorni Avvenuto Ho finito quasi Le tre leggi Della robotica Furono Insieme Le leggi Dalle quali Nella fantasia Di Asimov Tutti i robot Positronici Erano obbligati Di obbedire E se furono Obbligate Nel 1942 Le tre leggi Hanno avuto Qualche variazione Passando da traduzione A traduzione Ma anche se il continuo Divende sempre lo stesso E' meglio esprimere Prima le tre leggi Della versione originale E cioè La prima Un robot Non può Arregare danno A un essere umano Ne può permettere Che a causa Del proprio Mancato intervento Un essere umano Ne riceva danno La seconda Un robot Deve obbedire Agli ordini impartiti Degli esseri umani Perché tali ordini Non contravengono Alla prima legge Tre la terza legge Terzo articolo La legge Un robot Deve proteggere La propria resistenza Perché questa autodifesa Non contrasti Con la prima O con la seconda legge Le tre leggi Diciosimamente Furono modificate Non so dire Ma occorre A questo punto Che lo Stato E gli Stati E le loro varie istituzioni Applicano Qualche direttiva Nel senso Della prima legge Della robotica Ampliandola Anche nel senso Della distribuzione Dei redditi Davanti al lavoro Compiuto Da i robot Avendolo sottratto Ai suoi concorrenti umani Altrimenti Si forranno In competizione Alla sopravvivenza Di una Di due Stati Sanzienti Occorre quindi Che il legislatore Arrivi a comprendere Necessità Di l'urgenza Di tale normative Regolatrici Di una parte Del mercato del lavoro E dall'altro Della redistribuzione Verso i cittadini Da ricchezza prodotta Attraverso L'utilizzo del lavoro A costo tendente a zero Tramite l'utilizzo Di robot In ogni settore Dell'attività Di cui Fin qui Definito umani Ma ora E sempre più In seguito Definibili Robotiche In attesa Di tutto ciò Che gli stati O ciò che ne rimane Si decidano A fare qualcosa Non resta altro A noi cittadini Come al solito Di imboccarci le mani Ed assumere Su di noi L'onere L'onore Di trovare Soluzioni agibili Ecco quindi Una possibile soluzione Allora Entriamo nel discorso Della cambiata sociale Allora Cambiata sociale Senza che leggo Perché sarebbe Estremamente noioso Ma Occorre dire Una cosa importante Tutte le banconote E le monete Cartacee Virtuali o non virtuali Complementari O A corso forzoso O legali Qualunque tipo Di moneta E qualunque Tipo di promessa Di pagamento Dai bond Ai cct Degli stati O i bond Inglesi Americani Oppure Le emissioni Di prestiti Fiduciari O Di Raccolta Di Emissioni Monetarie Di titoli Da parte Di aziende Da parte Di imprese Da parte Dello Stato Eccetera Sono tutte 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 Si chiamano Diversamente Ma sono tutte Cambiali Cioè Gente Stati Istituzioni Che promettono Di pagare Fino a che c'era Loro Nella moneta D'oro Nel doblone D'oro O c'era Il tallero D'argento Quello era Un valore Era Una valuta E valore Insieme Ed era anche Una moneta Ed era Un tutt'uno Tutti gli altri Sono solo titoli Sono Quando va bene Perché l'euro Non è neanche un titolo Allora I titoli Sono promesse Di mantenere L'impegno Di dare qualcosa In cambio Per quello Che rappresenta Quel pezzo di carta O Il debito Scritturale Numerario Elettronico Che c'è Sul passivo Del conto corrente Nostro Per esempio Ecco Tutte quelle cose lì Sono tutte Titoli E soprattutto Anche Contemporaneamente Cambiali Perché sono Delle Delle note Di cambio Si chiamavano Cambiali Le note Di cambio Cioè Che Il Pellegrino Che una volta Partiva da Parigi E veniva a Roma Per pagare L'opolo Di San Pietro Tanto per dirne una Partiva E molto spesso Lungo la via Aurelia Che era Completamente Coperta di foreste In epoca Medio-euvare Si era Completamente Rigenerata Tutta la vegetazione Su quasi tutta L'Italia Perché i terreni Non erano più Coltivati Era il terreno Ideale Per i briganti Quindi Quando uno arrivava Che ne so Al passo Dell'Argetario Pintosto che A Pino di Tacco Lì Sulla Cassia Dove c'è Il passo Quel passo famoso Dopo Siena Va bene Non mi viene Va bene Va bene Non mi viene E dove c'era Questo bandito Famosissimo Pino di Tacco Che addirittura Stava creando Un piccolo stato Lì attorno a lui Perché si sovvenzionava Rubando i pellegrini Che facevano La via Francigena Come si chiamava Allora la Cassia Per venire a Roma E quindi Il pellegrino Che partiva Da Parigi O da Londra Per arrivare a Londra Che faceva? Se portava Il sacchetto Con le monete d'oro O d'argento E come arrivava lì Metodicamente Era tassato Al 100% Invece A un certo punto Ho detto Vabbè ma amico Sono scemo Possibile No Allora che cosa facevano? Si sono inventate Le note di cambio Anche le note di banco Ma le note di banco Erano leggermente diverse Non entriamo nel dettaglio Le note di cambio Seppivano appunto Perché uno Partiva per Roma Andava Dallo strozzino Confederato Allora i rossi Ancora non c'erano Magari c'erano I Quelli famosi Di Lucca Adesso Menea parola Il cognome C'erano Erano lì E c'erano Il loro filiale Il loro corrispondente A Parigi Lui andava lì Gli dava 50 grammi d'oro E quello diceva Ho preso 50 grammi d'oro Dateva questa Con bella botta Botta di cera lacca E quello portava In sacca la cosa Dove dimostrava Ovviamente che era la persona E quindi c'era anche il nome E quindi poi arrivava a Roma E c'era lì il corrispondente Che nel frattempo magari è arrivato il messaggero Via nave O via Globetrotter Come si chiamano Quelli che A cavallo Che portavano la posta Nel far west Come si chiamavano I poni express I poni express Arrivavano prima Del pellegrino Che veniva a piedi Quando arrivava Quello trovava L'oro corrispondente Ai 50 grammi E quindi Ovviamente pagando il 40% Perché si pagava il 40% Questa operazione Però La gente è veramente scema Che gli dava E va bene Era così il modo Proprio perché Erano schiavi Di un sistema monopolista Perché quelle gestioni lì Devono fare solo Le grandi famiglie Perché non si ha pesato In loro Credo quindi Allora Questo vuol dire Che Anche all'epoca Già Anche attorno al 1000 C'era questa Diciamo Modalità di operatività Che permetteva Di evitare Di essere raffinati E quindi creavano Questa promessa Di pagamento Quello scriveva Guarda Vai lì E quello te li dava Poi magari arrivava a Roma E quello non gli li dava Perché nel frattempo Aveva litigato Vai a capire Perché loro interne Però Diciamo che questo Dava una buona soluzione Allora Tralascio altri Pronto? 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 Sì Eh? Eh? Non lo so Guarda io so sono in una conferenza, non posso stare adesso però riprova che sta qui a casa adesso glielo dico però facciamo tardi qui c'ho degli amici e faremo sicuramente le otto pronto? Notaria? chiami Pasquale che ci ha invitato a cena lo chiamo digli di sì non si può risultare allora andando avanti quindi ecco dicevo quindi tutte queste note di cambio hanno assunto tantissimi nomi ma il mondo economico anche le banche fra di loro si pagano le compensazioni che fanno mensilmente al Bria e altri sistemi li fanno con le note di cambio interbancarie cioè sono dei plichi da un miliardo da 300-500 milioni eccetera che si scambiano infatti ultimamente nel 2008 nel 2008 quando c'è stata l'implosione della bolla speculativa americana le banche americane dai di loro non accettavano più i buoni interbancari perché sapevano quando fallita la Lehman Brothers perché sapevano che sarebbe andata a finire a mare cioè era troppo a rischio quindi volevano altri titoli volevano altri beni altri valori e quindi questo per dire che c'è un mondo economico tutto il mondo economico che si regge e sostiene sulle cambiate le hanno enfatizzate magari edulcorandole magari no perché la cambiate ha un'anomea piuttosto negativa indotta dalle banche ovviamente perché così le cambiate fanno loro ma però ha voglia che tu nascondi la verità la puoi nascondere per un po' la puoi nascondere per qualche persona la puoi manipolare per un certo periodo eccetera ma poi prima o poi la verità emerge quindi quando emerge tu più tardi la verità emerge più ne subisce il contracolpo è normale quindi cambiare sociale arriviamo alla cambiare sociale quindi la cambiare sociale è il riconoscimento di tutti quei valori che abbiamo detto prima cioè di tutti quei valori e di tutte quelle interferenze e diciamo correlazioni che corrono fra la vita umana e la società economica umana bisogna far compatire queste due esigenze cioè l'umanità il valore della vita umana e di tutto quello che ruota attorno all'umanità e le modalità di utilizzo dell'economia ad uso dell'umano e quindi economia primariamente finanziaria perché in un mondo così diciamo monetizzato come l'attuale tutto dalla nascita dal patto alla incenerazione da morto e con tutto quello che passa attraverso questi due estremi è misurato dal valore del denaro e poi ricordiamoci sempre che il denaro oggi in realtà non ha più un valore intrinseco ma è un valore che rappresenta l'economia che io vado a comprare cioè vado a comprare la piantana come vado a comprare il pc è il valore contenuto nel costo del lavoro di distribuzione di utile e quant'altro dell'azienda che produce quel computer che io vado a riconoscere oppure non riconosco perché magari dico quella è una bufala è una sofeca come diciamo a Roma cioè non serve a niente è un bidone come si dice normalmente in Italia perché non ha le caratteristiche per cui si vende allora io non riconosco ma se io riconosco che il bene è effettivamente quel valore io quel valore glielo riconosco attraverso l'indicione della cambiata sociale che entra con quel valore che trasferisce il valore del bene prodotto del computer a me e viceversa da me viene equitariamente traslato il valore che io riconosco di quel valore in sito nel computer non so se è chiaro il concetto cioè è uno scambio alla pari cioè tu mi dai un computer che funziona a quel prezzo che tu stabilisci che io ritengo che sia equo e ti dico ecco ti vuoi 500 euro o 1000 euro quello che vale e tu attraverso quella emissione che io ho fatto di quel titolo perché la cambiare è un titolo e poi lo raccomentiamo dopo e tu quel titolo poi lo puoi di nuovo utilizzare per un'altra transazione vai che ne so da ristoratore e ordini una cena per 50 persone no? o 10 persone quello che vuoi questo è chiaro il concetto quindi prego tu hai fatto una premessa tu hai detto una serie di cose con una conclusione con una considerazione finale ma cioè che sia funzionale alla vita delle persone ora o comunque di una comunità sociale molto spesso anche le iniziative che devono avere una funzione sociale poi vengono scelte per degli interessi personali questo è un altro discorso sì sì sono d'accordo con un altro discorso però è per dire che un conto è che noi facciamo un discorso sulla teoria di cosa è utile giusto bene funzionale è un conto è nella teoria c'è nella pratica che cosa si faccia ma comunque non ha importanza perché ognuno di noi avrà a disposizione mille euro al mese abbiamo stabilito e quei mille euro una volta che le ha spesi le ha spesi che sia in operi di bene piuttosto che in puttane e piuttosto che sia beni di veri a bari ma se lo stabilisci te portarsi che gli altri non siano la torta capito se vuoi comprare pure la droga se ti serve a me personalmente non me ne frega niente no no ma si mila euro non c'è da nessuno eh il punto è arrivare a stabilire che ce li diano 6.000 euro ciascuno o che ce li diamo da soli no per evitare da soli è diverso ah si però appunto ce li dobbiamo dare da soli oggi è stato fatto in un altro modo perché qualcuno aveva degli interessi al di là di quelli sociali appunto per questo c'è da cambiare sociale proprio perché per smantellare distruggere e abbattere quel macello di falsità decantate come virtuose per il bene le banche sono il massimo della virtù hanno l'onorabilità addirittura i banchieri sono onorevoli lo sapete sì per definizione l'articolo 1-2 cioè se per fare il banchiere devi essere dichiarato persona onorevole non onorata onorevole cioè allucinate nel senso delinquente più delinquente più delinquente ma questo prevede che ci sia una comunità un circolo una comunità che si filano tra di loro e che iniziano a far partire questa cambiata un attimo non prevediamo tutto perché allora quindi proprio per mantellare e distruggere questa serie di preconcetti assolutamente falsi occorre appunto andare a intervenire sulla manipolazione e sulla manovra da parte di questi personaggi che abbiamo detto sottogliendogli e sottogliendo l'osso al cane grosso cioè praticamente noi togliamo gradualmente partendo oggi da zero ma nel corso dei giorni dei settimani dei mesi se il progetto comincia ad attecchire come è possibile che possa avvenire perché è già successo in varie altre occasioni che ho anche più volte ricordato e c'è questa possibilità appunto di intervenire andando a far defluire quello che affluiva tutto verso l'unico punto di drenaggio che era la banca tutta la ricchezza prodotta dai singoli individui perché la ricchezza ricordiamoci è dell'individuo che la produce non perché lo dico io ma perché nella realtà le cose perché se uno è capace a produrre tavolini in legno io ho fatto il cancello in legno no? avrei dovuto comprarlo e spendere 300 euro come minimo e invece come sono fatto da me con 50 euro di legname ma se avevo altre attrezzi avrei speso ancora meno comunque questo per dire che quel valore l'ho creato io quei 300 euro prima valevano 50 euro messi insieme sistemati composti e diciamo collegati i vari componenti tra di loro ho fatto ho fatto un cancello che oggi avrebbe un valore in una casa di 300 euro che prima non esisteva chi ce l'ha quel valore io l'ho prodotto sta lì è mio è mio il cancello è mio c'ho 300 euro cioè 250 euro in più dei 50 che avevo speso che stanno lì fuori in giardino state chi ha il concetto se io mi rivendo dovessi rivendere quel cancello a uno io dico mi devi dare 300 euro di chi è quel valore è mio è mio non di chi che ne so mi presta i soldi perché io gli ho dato il cancello mi ripresta la banca no mi serve un valore in banca gli ho dato il cancello impegno gli dai e quello mi porta via un valore che ho creato io e non mi ricorda mai più è lì bello perché una volta che te l'ha sottratto se tu rivuovi quel valore gli dai di nuovo altri soldi in interesse questo è chiaro il concetto hai capito? e quindi non c'ha senso continuare a operare fino nelle modalità in cui abbiamo operato fino ad ora se noi cominciamo a mettere in circolazione la campione sociale sottraiamo dalla manipolazione dall'oppressione di questo potere monolitico tutto il sistema monetario finanziario economico sottraiamo potere in to cure potere sottraiamo potere a tutta la catena di comando che confluisce nella banca perché poi la banca corrompe i parlamenti corrompe i consigli comunali i governatori regionali a seconda di come gli fa più comodo e li utilizza per farsi fare una legge ad hoc altro che ad persona ad hoc è chiaro e quindi se noi sottraiamo e facciamo drenare non alla banca ma dreniamo noi quel capitale che lo sottraiamo alla banca e lo rendiamo immune da qualunque virus perché a quel punto non c'è più nessun motivo di contagio quel denaro che funziona attraverso la cambiata sociale perché il controllo è orizzontale è un controllo ripartito distribuito quindi nessuno può più intervenire a cercare di creare un potere ulteriore agli altri e neanche può capitalizzare niente perché i mille euro o li spendi o non li spendi è noi che ci frega se li spendi bene se non li spendi non è che capitalizzi i mille euro anche perché la cambiata sociale è a temuraggio la cambiata sociale è a abbattimento del valore perché nel mondo reale qui entriamo in un altro campo un altro aspetto nel mondo reale non esiste niente che abbia un valore in eterno le pochiglie ci hanno avuto un valore per mille anni poi a un certo punto ci si faceva la porpora no? poi a un certo punto qualcuno ha inventato qualcosa di diverso e non ci hanno avuto più nessun valore no? un po' di lavoro nessun valore quindi questo che stava a dire ho perso il filo scusa che le cose cambiano che le cose deperiscono quindi i conflitti perdono valore perdono valore ah ecco perdono un momento di amnesia stavo pensando altre cose perdono il valore quindi non si capisce il perché tutto perde valore anche l'uomo quando nasce c'hai dentro di sé i germi positivi le cellule che esplodono e che cresci di tre volte il peso in quattro anni diventi quindici chili quando sei nato a quattro chili in tre anni non è che poi quando arrivi a 20 dopo tre anni arrivi a 180 chili oddio c'è pure chi ci arriva fa il meglio per non arrivarsi questo voglio dire quindi ogni epoca c'hanno la sua diciamo attesa di esiti no? e normalmente qualcosa che ha un esito è un esito variabile è corruttibile quindi per esempio se uno fa il cancello che ho detto io prima quel cancello lì fra cinque anni comincerà a cadere ci avrà dei problemi fra dieci anni sarà un po' marcito fra vent'anni lo devo buttare via e ricomprare quindi perché il denaro non solo non marcisce ma viceversa ogni anno aumenta del 3 10 50 100% dove sta scritto? dove si crea quel valore? da dove esce quel valore? no? ha capito perfettamente da dove esce quel valore? se quel valore lì è destinato a a meno che non sia un'opera d'arte allora un decilico nel 50 valeva 10 milioni oggi ne vale 150 mila un milione di euro al valore attuale c'è qualche anche una bottiglia di vino un'annata particolare di cent'anni fa oggi vale una cifra ma sono casi che non si capisce ma non si capisce ma quella infatti che cazzo voglio dire no l'hanno dimostrato per i ragazzi a Livorno no come cavolo si chiama quel famosissimo scultore pittore livornese che stava in Francia nel fine 1800 che c'era le donne col collo lunghissimo modigliani modigliani modiglia hanno fatto che la peffano ventina d'anni fa non so di ricordare 15-20 anni fa in cui l'hanno fatto trovare nel fiume vicino casa non so uno due tre quattro no mezzi venti come si chiamano mezzi busti mezzi busti mezzi busti mezzi busti che riproducevano lo stile modigliani e tutti critici a dire oh sì è vero allora se uno vuole quelli di essere voluto ne facevano centomila dei busti e quanto voleva modigliani zero capito quindi questo vuol dire che tutto è relativo ma la cosa essenziale diciamo standard quella normale è che un bene qualunque sia anche una prestazione di qualunque genere se dilatata nel tempo non ha più quel valore che c'era inizialmente e il concetto che bisogna bene far capire è che il valore rappresenta l'oggetto il bene la risorsa che io vado a mettere nel circuito commerciale nazionale o locale come vuoi ma nel circuito pubblico intanto che io tengo il cancello in casa qua a casa quello lì non ha nessun valore pure se ha intrinsecamente un valore non è un valore commerciale capito che vuol dire se lo vendo diventa un valore commerciale e viene assommato al tutto il totale del valore del prodotto all'interno dello Stato ma fino a che rimane lì è un valore che c'è ma non esiste all'interno del mercato economico nazionale quindi bisogna capire bene che la moneta oggi e quindi la rappresentazione del valore è il valore che integra in sé nella cosa che tu vai a affittare un altro chilo stavo dicendo un'altra cosa prima tu hai detto qualcosa che tu hai capito bene chi ha creato quel valore chi ha creato ah ecco no parlavo quindi del fatto che per esempio tu vai a solito esempio del frigorifero tu vai a comprare un frigorifero o fai a comprare un chilo di pomodori un chilo di pomodori se tu non li immagini entro una settimana adesso hanno fatto quelli che durano tre anni sono talmente geneticamente modificati che non marciscono quasi più anche dopo 20 giorni stanno ancora li belli curcidi no comunque facciamo finta che è un pomodoro vero un pomodoro vero una volta 30-40 anni fa un pomodoro vero dopo 3-4 giorni cominciava a sconfiarsi a restringersi e poi a marcire nel giro della settimana era marcio e allora secondo te tu avevi comprato un chilo di pomodori poniamo 5 euro no esagerando 5 euro dopo una settimana o la vedi mangiare io lo buttai via quindi quanto vali è durato nel tempo quel valore niente lo stesso se tu vai a pagare una funzione religiosa dal prete per fare la novena ai morti della famiglia no quanto vale 100.000 euro quello dice una piecherina fa e mette un po' di fiato un po' di suoni e ti chiede 100 euro quanto è durato quel valore niente è durato fino al prossimo anno quando fai la mia le morti è durato un anno se è una cosa che prevedi è durato un anno poniamo che sia vero con lui è durato un anno con questo con questo ci rilasciamo infatti un altro per un accordo oppure se è un'indulgenza fin quando commetti un altro peccato devi andare a chiedere un altro peccato diciamo un anno sei mesi quel tempo lì se uno becca spesso non so se conoscete Domenico De Simone lo conoscete? Domenico De Simone è un avvocato che è sempre occupato dell'economia lo conosci te? è uno che è arrivato alle stesse miei conclusioni gli avevano un nome diverso con lui si chiama qui c'era la zeta adesso non mi ricordo più è un nome strano per strada completamente diversa perché io allora non lo conoscevo siamo arrivati a funzione molto simile e lui Domenico De Simone aveva fatto un calcolo incredibile in una conferenza sapete in una conferenza assieme ti aveva pure questa cosa ha detto una canna di questo e di ciò si deve fare ha calcolato che se uno avesse dato un sesterzio all'epoca di Gesù Cristo come opolo di San Pietro oggi non basterebbe più la materia compresa in tutto l'universo d'oro per calcolare quanto valeva effettivamente tutta la materia dell'universo in oro non basterebbe per calcolare quanto costa oggi all'interesse del 3% all'anno ah beh certo la crescita enorme questo per dire insomma sì ma apposta ma chi ha stabilito cioè voglio dire questo questo fatto che il denaro debba aumentare il numero di valore è una cosa fittizia siccome è stato attribuito a qualcuno di farlo questo qualcuno stabilisce quello che vuole ma tu non stai dicendo in realtà niente di speciale rispetto a qualunque altra cosa perché se io ti do il brevetto di un farmaco te te lo metti sul cassetto se lo diamo a un'azienda chimico-farmaceutica ci fa sopra una ricchezza enorme con quel brevetto e noi tutti quanti paghiamo quindi voglio dire che la creazione della ricchezza del denaro del potere è affidata a chi ha l'incapacità per farlo cioè anche se ti dai ci sarebbero tre o quattro livelli di discussione da fare evitiamo per il momento che se no non lasciamo però è vero che non è una critica che facciamo soltanto alle banche è una critica a chi monopolizza il sistema dell'arrivismo della competizione ma quello deriva dal fatto che le banche instaurano un sistema di mancanza di penuria ed è lì il problema tutti quanti dobbiamo cercare di correre in più l'esempio classico tu non so se conosci hai mai letto il mio primo libro cioè Alessandro l'altro libro Arma Letale tu l'hai letto tu l'hai letto allora il mio libro mi pare che l'ottavo capitolo comunque uno dei primi capitoli c'è l'isola del tesoro la storiera dei cinque personaggi che io ho visto lui è un economista socialista canadese comunque dei cinque naufraghi che arrivano sull'isola ognuno ha le proprie competenze poi arriva il banchiere e passa e sopravvivevano benissimo tutti e cinque capito che io quindi questo per dire che non c'è nessuna verità per far confluire inconfutabile per far confluire il drenaggio del denaro e l'utilizzo del denaro aspetta un attimo se il banchiere avesse semplicemente suggerito il denaro e avesse semplicemente stampato il denaro e l'avesse usato come si usavano le conchiglie cioè ti do le conchiglie non è che me le devi dare di più ti do le conchiglie e ti scambio le conchiglie potrebbero fare pezzettini di legno o quello che vorrebbero i noccioli delle ciliegie e quindi è semplicemente l'utilizzo che si fa degli strumenti di cui l'uomo dispone se poi uno ha la furbizia di metterci un tarro nelle cose e quella furbizia poi crea la confusione che c'è oggi la furbizia è diciamo inerente all'oppito imprescindibile della competizione ecco il perché esce fuori il peggio degli uomini la tratta delle bianche la tratta degli migraminesi la tratta dei bambini degli organi eccetera secondo me la sintesi tutta è che l'uomo si deve porre dei limiti deve imparare a porsi dei limiti perché anche nelle gare sportive non è che devi fare qualunque cosa il doping la corruzione degli altri quello perché è insito intanto nell'uomo umano nella persona umana diciamo di essere in competizione con l'altro per motivi psicologici io sono io esisto e tu sei su quello che dico io e non viceversa e non un equilibrio di considerazioni dell'uno dell'altro ma soprattutto perché c'è questa induzione al reato da parte della carenza del denaro per poter vivere degolosamente è lì il problema poi ovviamente una volta che uno ha preso il via fa anche le maggiori manifestazioni del pensiero dell'azione che può fare un uomo però comunque sia è tutto scadulente da questa necessità di sopravvivere guarda non lo so se dipende proprio solo da quello perché magari in periodi in cui oggi non ci stanno tantissime altre cose oggi non ci sta neanche il lavoro oggi non c'è neanche l'istruzione appunto infatti non c'è neanche la sanità perché se ci fossero queste altre condizioni uno potrebbe anche uscire un po' fuori da queste dinamiche seppur esistono non riguardano tutti e la gente potrebbe anche sentiamo lui c'è la fada di domanda allora dunque il adesso le scremo perché erano troppi la volete una pietra? no grazie no intanto come può essere contestato piccola premessa alcune domande su un funzionario del progetto dove poi avranno il terreno la struttura per concretizzare il progetto nella frattispecie si sta parlando di una lista comunale che io dell'anno prossimo ti voglio preparare ovviamente si potrà inserire un programma che è di competenza del non è che si può parlare della drogazione della legge di Lorenzi perché a livello comunale non lo puoi fare e poi perché è meglio romper il progione quando si è già dentro piuttosto che non però il sindaco può mentre divassero tra le vuote a tanti progetti più rischi che poi ne conseguono per il sindaco stesso infatti ci sarà un inter da fare prima di predisposizione dei vari scusi prima di andare ecco quindi comunque molte domande sono funzionali a questa cosa una per esempio è come si può contestualizzare la cambiare sociale in una lista allora e a suo punto con lei un'altra domanda che è minutemente dopo che può essere la stessa l'altra domanda che è connessa alla contestualizzazione del cambiare sociale in una lista in un mare qual può essere la strategia comunicativa opportuna per introdurre il programma del reddito di cittadinanza e anche il discorso dell'inverso sociale se e quando introdurre una campagna elettorale se e come ok allora ti rispondo qua perché ho una risposta già scritta il che mi tradisce il fatto che non ho letto quella pagina no non l'hai letto proprio comunque non è importante l'importante è che leggiamo la rete allora il comune a tutte le facoltà nella sua autonomia già da ora e senza l'intervento della politica e della finanza ufficiale può garantire titoli i titoli che ho spiegato prima che c'è anche i cambiati sono titoli e poi vi spiego cos'è il titolo ma andiamo avanti il comune può garantire titoli allora può garantire titoli per far sì che il suo territorio si mantenga e prosperi nel benessere tra le tante iniziative possibili cioè quella di rappresentare il valore del territorio locale e ad esempio per farlo il comune può garantire la cambiata sociale comunale che è una formula un po' diversa che poi vediamo uno dei migliori modi per valorizzare per fare valorizzare e rimanere la ricchezza in un territorio evitando di farla trenare attraverso le multinazionali grandi banche casini e magazzini grandi compagnie telefoniche eccetera è quello di cercare di radicare le ricchezze con una moneta locale quella che si può spendere solo in quel luogo e in quel territorio la cambiare sociale in euro comunale in breve casco si chiama casco cambiare sociale comunale è un titolo di rappresentazione e conservazione del valore che può essere emesso da ogni persona a titolo privato e garantito da un ente pubblico che rappresenta la comunità di un territorio e quindi il valore di un territorio il casco può essere emesso dal comune emesso poi è sbagliato riconosciuto garantito dal suo comune per il suo solo territorio in maniera personalizzata con l'effigio di un monumento del luogo per esempio chi lo emette di fatto aspetta non ci arrivo e può essere spendibile solo all'interno del territorio comunale l'emissione d'uso del cambiare comunale titolo casco viene sponsorizzata dall'ente che rappresenta un territorio di una comunità la emette chiunque chiunque tutti i cittadini di quel territorio tutti i cittadini di quel territorio nel senso che i cittadini fanno dei baratti no no fanno la spendita di cambiali sociali corregimi se sbaglio voglio vedere se ho afferato il concetto perché l'economia non è la mia materia la cambiale sociale può essere definita come l'ufficializzazione e quindi anche una forma di tutela del baratto no anche la compravendita in realtà è riconducibile a un baratto però non è un baratto è una compravendita il baratto è la forma primordiale di negozio giuridico ok io do una cosa a te tu dai una cosa a me ok ma proprio perché io do una cosa a te e tu dai una cosa a me delle volte quello che devo dare a te non c'è tu mi dai prima una cosa perché io la do dopo tre mesi la mia no sì la cambiata sociale fa questo no la cambiata sociale evita di fare questo cioè io ti do una cosa a te e tu mi dai una cambiata a me contemporaneamente quindi fa da ponte tra lo scambio e quindi non è un baratto il baratto è la formula di negozio giuridico primordiale perché è appunto uno scambio come si dice non vicendevole ok devo dire una cosa vieni qui accidenti sono diventato meccanismo meccanoso no perché la storia dice che mi immagina ma se tu ti ha il livello è che loro non vengono le tessere 5 ore no ok prima non c'è non c'è io non c'è non c'è non c'è non c'è sai che non è qua allora andiamo un po' più tardi io andiamo a 3 e 9 no 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 4 e 9 no allora no che fai da fare no perché non andiamo a 4 loro alle 8 e mezza non io ma forse eh non è che dovessi andare via no no sto vedendo ok noi vogliamo parlare di Milano sì qua e se no io andiamo a 3 e mezza no 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 perché tra l'altro diventa troppo complicato poi siete visti di casa magari c'hai un po' di no 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 andiamo a un altro punto digli che la mettessi da parte per congelarsi l'altro che un'altra volta allora ehm oddio che dicevo siamo al baratto ma no aspetta sì dunque certo cioè in termini esattamente non viene non viene uno scompenso diciamo no cioè non è equilibrando cioè se io il baratto ti conto tu c'hai una pecora perché gli anelli nascono ad aprile più o meno ad aprile c'hai un agnello vuoi comprare che ne so ehm i soliti pomodori i pomodori vengono ad agosto capito che voglio dire quindi il baratto non è compensativo immediato non è discendevole di compensazione immediata ma è dilatato nel tempo perché i due prodotti i due elementi sono disponibili in due epoche diverse in due elementi diversi e invece il denaro ha proprio permesso e introdotto questo diciamo non più necessità ti do una cosa tu me ne dai un'altra ma tu mi dai una cosa e io gli do il riconoscimento del valore di quella cosa ovviamente bisogna che ci sia una fetta di cittadini e aziende che aderiscono certo poi ci arriviamo bisogna creare il cerco ah aspetta invogliarlo invogliarlo spiegare i vantaggi allora il casco titolo fiduciario accettabile o no come qualunque altra cosa quello vediamo si può ha proprio insindagabile arbitrio può essere utilizzato al 100% come titolo di pagamento per prestazioni intellettuali servizi culturali sociali assistenza anziani formazione consulenza progettazione badanti scuola attività artistiche e quant'altro prodotto realizzato all'interno del comune ovviamente e il comune garantisce sì adesso ci arrivo i contadini potranno vendere i prodotti in asserenza e i loro giardini in casco ogni comune quindi potrà chiedere servizi ai propri cittadini pagando in casco anche il comune potrebbe pagare in casco i cittadini potranno comprare e vendere servizi all'interno del comune in casco ed anche pagare le tasse locali in casco già stato fatto non è che te lo dico io in moltissime occasioni in moltissime situazioni epoche e paralleli esempi più recenti di questa soluzione beh c'è anche un comune a Manfredonia che mi pare che ha annunciato adesso questi ultimi giorni ma dai sì ma no a Manfredonia o comunque comunque torna a Bari quella zona lì tra Bari e Forge ma adesso mi ricordo bene sì eh? sotto Covid mi pare che ha fatto sì lo sto facendo adesso ma dai sì allora le emissioni di casco devono essere superanti rispetto al flusso di equilibrio tra un valore locale disponibile valuta per regolare il flusso ed evitare l'inflazione il comune potrà trenare quantità controllate il casco mediante tassa comunale pagabile il casco per gestire il flusso di flusso e il titolo di casco in circolazione insomma poi tralascio qua ci ho scritto l'ultimo e come può sempre che possa una banca essere fatale in un progetto di cambiare sociale? no assolutamente no non può è il nostro nemico giurato no questo sicuro però magari ci sono ancora quelle piccole banche di cui il Banco Popolare che potrebbe in qualche modo no ti spiego no ti spiego perché non è possibile perché per avere una concessione ministeriale del tesoro e poter fare banca anche c'è la banca etica la banca etica io ho tirato un pippone una volta c'avevano una sede via dove hanno fatto l'attentato contro i nazisti mi succede tutto in via Grado di solito è lo stesso è lo stesso la via dove fessero l'attentato quel drappello di tedeschi altoatesini vabbè adesso mi viene in mente no via Pani Sperma no via Pani Sperma porca miseria è quella quella che via da via Quattro Fontane gira a destra prima a destra vabbè hai capito via Piazza Barberini via Quattro Fontane subito a destra c'è questa via famosa dove fecero l'attentato Rasella via Rasella bravo via Rasella via Rasella via Rasella all'inizio era numero 3, 4 5 c'avevano un ufficio e una volta c'era un mio amico Giuseppe Strano Pino Strano con cui abbiamo fatto un sacco di cose non so se lo conosci con Pino abbiamo dedicato decine anni fa l'abbiamo chiuso però era un amico un amico intimo e lui appunto non mi ricordo ma perché insomma mi nominò tesoriere di un'associazione che avevamo messo su non mi ricordo neanche quale ed ero io che andavo in giro a risolvere i problemi e quindi sono andato due o tre volte a questa banca etica l'ultima volta mi hanno fatto incazzare che tu non c'hai idea perché ma scusate ma perché vi chiamate banca etica quando in realtà siete esattamente come tutte le altre se no non vi danno la concessione governativa se non fate esattamente quello che dicono non è dicevi ma noi i nostri utili riudibizziamo in cui opera il bene e figuro a me mi chiedi 10% di interesse a me che me frega che riudibizi dove sta il vantaggio sono io il primo a cui fanno bene allora chiedimi 10% poi mi istituisci l'8 certo anche il 9 scusa una cosa prima la domanda che hai fatto te il comune come funziona ma questa cambiale è il comune a distribuirla allora il comune può emettere delle cambiali le poteva emettere questa cosa qua l'avevo scritta prima del 2009 e poi è cambiata allora oggi i comuni non possono più emettere niente però possono sponsorizzare e garantire quello dei cittadini andando ad accettare il pagamento delle dati il comune non la può emettere però la può accettare certo puoi pagare l'asilo nido puoi pagare i servizi sociali puoi pagare quello che vuoi dei miei dipendenti paghi anche con cambiamento alla fine è un modo per emettere perché se il comune l'accetta e quella reggira però la legge del terzo unico bancario non permette la emissione dal terzo unico bancario o no dice alcune altre cose la legge finanziaria quella di fine anno del 2009 anzi no prima nel 2007 poi nel 2009 poi nel 2011 hanno fatto tutta una serie di obblighi ai comuni come il pareggio di bilancio tanto che di ne uno dove appunto era impedito ai comuni di creare altri debiti se non mantenendo la varietà di bilancio quindi come comune dobbiamo di sottolineare l'altro ci sono delle cose che bisogna mettere un po' a lineare uno se abbiamo stabilito che i cittadini hanno diritto a un reddito di cittadinanza diciamo così e al suo punto il comune come te li dà questi soldi chi te li dà il comune lo Stato te li dai da solo quindi io mi emetto una cambiare ma nel momento in cui emetto una cambiare sto scrivendo che io poi a un certo punto te la dovrò coprire con qualche altra voglia la dovrò convertire col denaro no perché la cambiare sociale quando viene emessa fai conto che valga mille euro fai una sola al mese mille euro ha un valore nominario mille euro però immediatamente mentre la compili o compili quando preferisci perde immediatamente il 4% quindi non diventa più mille ma il 960 e queste 960 immediatamente nel mese successivo perdono il 2% e poi i mesi successivi ogni mese il 2% quel 4% serve per coprire le spese per chi per quella diciamo organizzazione che può essere il comune può essere un'associazione che ne so la camera di commercio locale quello che vuoi che mette lì una persona a controllare o un webmaster che prepara un piccolo software di gestione dei conti correnti che contabilizza le entrate e le uscite per quanto tu compri frigorifero da me mi dai mille euro io do il frigorifero io devo mettere in contabilità che tu mi hai dato mille euro e il tuo altrettanto in uscita e io in entrata quindi io poi chi paga il contabile ci sarà questo piccolo software che fa questa gestione di contabilizzazione e ci sarà qualcuno lì che controlla a rotazione magari una volta un giorno te un giorno te un giorno io un giorno lui o insomma qualche cosa analogo in modo che non ci siano diciamo sopraffazioni di nessun genere interessi particolari da parte di nessuno per cui praticamente questa cambiare diventa in circolo diventa contabilizzata e ad esempio se quindi resta tutto in bianco se io aspetta se io mi contabilizzo mille euro in entrata io ci avrò i miei mille euro ma i tuoi 960 capito? io gli ho dato il frigorifero lui mi ha dato mille euro in realtà 960 perché il 4% viene defalcato immediatamente dove si fa a defalcarlo? da un foglio di carta allo cui c'è scritto io scrivi mille quello che contabilizza sai che l'hai messa oggi e lui automaticamente defalca il 4% io sono perso il riferimento del 4% il 4% cosa sarebbe? il 4% dell'emissione che fai cioè chi tiene la contabilità perché se no uno continua a metterne per quello il 4% viene tolto da quello che fa la contabilità dall'ente che fa la contabilità per la gestione i costi di gestione ah ok nel senso questo è per non permettere a chiunque di emettere il cambiare social mille 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 al mese quindi si deve stabilire mille euro al mese eccetera quindi ognuno ha un reddito però lui stavo facendo l'esempio che lui mi ha dato la sua cambiale messa appena adesso per il frigorifero 960 quindi io ci avrò oggi che è il primo giorno mille euro miei più 960 euro quindi tu intendi dire che quel reddito di cittadinanza di x euro in questo caso ma creerà delle conseguenze dato attraverso la possibilità di emettere un cambiare sociale certo ok quindi non da denaro o dare distribuzione da niente da niente da quello che vado a comprare un cambiare sociale che ha questo demurrage quindi ti viene automatico di spendere il prima possibile e far ruotare l'economia bravissimo bravissimo perché io ho 1000 euro se non rispendo questo mese lo persi se la emetto diventa 960 ma il mese prossimo diventa 940 ma è un po' la stessa cosa perché perde il 2% al mese che è il costo che deve mantenere quello che mantiene la contabilità la gestione la gestione capito ok se non rispendo questo mese non è che queste semplicemente vanno calando va in calando ok il mese prossimo ancora diventare 920 900 380 fino a che alla fine del 40 non puoi più accumulare nulla perché allora cos'è che ti dà il potere l'accumulo delle ricchezze lì non puoi accumulare perché non puoi prendere se non fai ruotare le cammini allora no l'accumulo c'è comunque perché quello non si può evitare però andiamo avanti dopo ricordami ricordami l'accumulo è un accumulo meno che proporzionale no però volevo dire per completare il discorso che perdendo il 2% al mese oltre il 4% iniziale il 2% al mese porta al 48esimo mese ad essere zero cioè parlavo prima della 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 2% sul capitale iniziale o su quello che resta la degradazione la corruzione del frigorifero che dopo 10 anni non vale più 1000 ma vale 50 se trovi uno che te lo compra è lo stesso progetto il principio che porta appunto la cambiazione sociale a perdere valore in continuazione perché nel mondo reale tutto perde valore continuamente una volta che è nuovo vale il suo massimo valore dopo c'è una macchina compri una macchina nuova domani la vendi hai perso già tutta l'IVA e buona parte te l'hai messa su strada per cui costa 10.000 euro dopo se te ne danno 7.000 grasso le cule il giorno dopo eh? giusto quindi questo per dire quindi all'IVA al 48esimo mese che hai perso tutto no perché l'ultimo non rimane con il cerino in mano ma quello che è ultimo attraverso un circuito troppo lungo adesso da dire ma che si può fare via telematica trasmette il dato che è scatuta quella cambiale è arrivata al 48esimo mese all'ente di controllo l'ente di controllo automaticamente ti autorizza all'emissione di altri 20 euro che erano quelli che ti sono franiti in mano hai capito? domanda domanda ipotizziamo che una banca decida di entrare a far parte degli utenti non lo faremo mai lo faremo no ipotizziamo un piccolo banco popolare o di credito cooperativo mai ti ha detto c'è una legge perde neanche come utente nel senso non di metterlo ma di accettarle come pagamento e rigirarle mai è possibile perdere potere distruggere le banche scusa Orazio ma questo vuol dire che quando a me arriva una cambiale che ho scritto sopra mille se sono passati ci sarà scritta la data certo io mi faccio il conto dei mesi e stabilisco che valore gli devo ridare contro il caso ora mai tutti hanno il cellulare nel cellulare c'è una cartola di risa tranquillamente vedi lì vale 4 data dunque originariamente valeva 320 325 325 sono passati sei mesi vale 280 qui si che si potrebbe creare un'app tipo un QR code che ti dice per cambiare social quanto vale certo una volta era cervellotico con i decimali percentuali oggi abbiamo tutti il cellulare e fare con l'app si però è un po' paraginoso ti devo confessare se ci pensi meno meno che tu hai una posizione di pasta per fare la strisciata su venta vecchia meno che arrabbattarsi fino a pene mese questo è sicuro certo meno che magari i costi che ci stanno comportando le banche a tutta la voletità però un comune potrebbe stampare una moneta propria teoricamente una moneta propria no per la parte del no perché la qualità di bilancio no Berlusconi ha fatto una legge che non può più che cosa che era a Calumina che l'ha fatto stampare a un comune nel 2010 mi sembra nel 2011 ha fatto una legge che non possono più emettere c'era un comune del Campano o del Mauritia ma ha continuato a provarsi solo che sono sempre arrivati a bloccarli tutto certo qui non si può continuare a fare la gincana e la corsa ostacoli a fare la corsa ostacoli no prima hai detto la gincana cioè non è che se viene fatta una legge lo dicevamo anche prima se viene fatta una legge che dice che adesso l'ostacolo è un po' più alto poi c'è la pozza dell'acqua devi salarcare dentro e poi devi fare 4 giri a 4 capovolte e noi facciamo tutti questo ma per lo male è la vita del cittadino medio ecco ma questo dimostra che questo ci conferma che non è che la banca con i suoi interessi con il signoraggio che tutti i freschi e la finanza internazionale ci stanno mettendo in ginocchio che noi stiamo accettando che chiunque ci governi è come se tuo padre ti dicesse hai fatto i compiti sì bene adesso leggi il libro al contrario perché cioè in che senso è come se imponessi il cittadino uno stile diverso quello che ha bisogno non è che il secco politico oggi ci dice ah hanno già pagato tutte le tasse beh adesso mettiamo una nuova tassa e lo fanno e noi paghiamo pure quella nuova tassa e il fazzoletto giallo con tasca costa 5 euro tu hai le scarpe grigie con le streppe la streppe costa perché non hai lacci è più facile un euro ma io che a certo punto il popolo che faceva ce l'ha segnato ma a questo che dobbiamo fermare a Bologna le attività pagano la tassa sull'ombra dell'insegna e beh per questo che ti sto dicendo non ha senso lottare contro un sistema meglio che non le dico altro non deviamo qualcosa di vero no ma qui il discorso non è che diciamo è che se noi vogliamo contestare di un sistema la pressione che avviene attraverso la finanza e le banche però poi lasciamo che questa pressione seppur si facesse la cambiata sociale nell'ambito della legittimità e quindi ovviassimo a questo poi ci ritroviamo che si però adesso voi siete stati 5 in una casa e dovete pagare 100 euro per uno allora che facciamo qui bisogna impedire tanto vale cambiamo le regole cambiamo le leggi bancarie hai parlato di regi bancarie il popolo si oppone alle leggi bancarie punto quindi ci sarà dire torniamo in modo per aggirare le leggi bancarie inventandoci una punta complementare che è legittima cioè tu vuoi dire che se domani cambia le le leggi anche la cambiare sociale no perché non hai studiato non hai studiato non lo sai allora ti dico in Italia esiste il testo unico bancario che ho detto anche prima ma esistono anche dei trattati internazionali ratificati in Italia in particolare quello del 7 dicembre 1930 che è stato ratificato in Italia luglio del 1933 che è il reggio decreto è stato ratificato con il reggio decreto 1669 che prevede in 114 articoli l'accoglimento della convenzione internazionale che ho detto e che cosa dice dice due cose importanti primo che la cambiare e quindi anche la cambiare sociale è esente dalla legislazione sul bollo sul bollo mentre il bollo ce l'hanno sempre qua aspetta aspetta d'altra parte e loro dicono da finire aspetta che finisco di fare risposta che magari ti rispondo a quello che ti prendo in mente allora ti stavo dicendo che la cambiare sociale ha un 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 backstage diciamo di fondamento internazionale che nessun governo nazionale né italiano né francese né indiano può cambiare più quindi perché perché i trattati convenzioni internazionali si possono ovviare solo con un'altra convenzione internazionale a ratifica ma che non è facile siccome i 41 stati hanno ratificato questo trattato praticamente sono fusi sono estinti hanno accolpato altri hanno aggredito e integrato altri la Jugoslavia per esempio non esiste più tanto voi ditene una o l'Unione Sovietica non esiste più e quindi in questa trattata internazionale non è più possibile rescinderlo e allora aspetta la cosa importante è che questa cambiale è al di fuori delle leggi nazionali quindi il governo Conte può fare quello che cazzo dicare che certo se ci manda i militari in tenuto al combattimento allora non puoi fare niente lo fanno ma fino a quello non puoi fare niente puoi sempre rispondere col fuoco a quel punto i giochi non cambiati allora andiamo un passo livello comunque sia la cambiale allora guarda conosci Abete la dinastia Abete no non ho mai sentito il ministro Abete il presidente Abete sì è quella è quella allora la dinastia degli Abete parte indovina un po' dal 1944 indovina un po' perché perché il governo americano e il governo temporaneo italiano quello che stava a Taranto si erano messi d'accordo hanno fatto tutto un impiccio insieme alla mafia ovviamente e Abete c'era una piccola tipografia in quel di Avellino o Benevento non mi ricordo più dove stava era un piccolo tipografo ha avuto il mandato da parte del governo americano di stampare le Amlire allora ufficialmente Marco Saba qualche anno fa non so se conoscete Marco Saba sì qualche anno fa quando ancora ci parlavamo ah no l'ho chiamato poi è schizzato no l'ho chiamato io l'ho chiamato io un annetto fa tutto contento che l'avevo chiamato da Bergamo si è trasferito a Radisburg non ho capito bene perché comunque esilio ma lo so insomma fatto sta che lui essendo un topo di biblioteca queste cose le ha fatte tantissime ha fatto una cosa una ricerca interessantissima è andato a vedere quante ne era stampate le governo americano e è apparso che nel due o tre anni quattro anni che è durato nel periodo delle Amlire sono state stampate circa 150 miliardi i quali 154 miliardi di Amlire dell'epoca che per quanto è inflazionata valeva 50 volte di più di adesso un Amlire e quindi niente questo per dire che questo signore Abete il nome non mi ricordo più del capo Sibita ha fatto praticamente la stampa doppia come hanno fatto facevano anche quelli della banca romana nel 1898 87 quegli anni e praticamente si è messo da parte in cinque anni un capitale che ancora oggi sfruttano per operare in borsa per fare grandi fusioni nazionali e internazionali eccetera questo per dire che di momenti inflazionistici ce ne sono stati tanti però l'importante è che questa inflazione non vada a interessare la maggior parte della gente può essere benissimo che che banconote vengono stampate in surplus inflazionistico ma che non vengono messe nel circuito immediatamente ma che vengono fatte valere in varie forme in altro modo ma l'importante è che le cambiari è vero che possono essere in qualche modo eluse sorpassate dagli eventi per qualche motivo eccetera ma è anche vero che in questo momento fino a che non ci attaccheranno direttamente proprio a livello personale qualcosa faranno è chiaro che possono fare ma non lo possono fare legalmente perché nel momento in cui facessero una denuncia per come dice per raccolta di denaro pubblico come ha fatto per esempio hanno denunciato Auriti Auriti è rimasto spiazzato perché lui non aveva valutato probabilmente questa operazione con noi questa cosa non la possono fare con la cambiare perché la legge non prevede l'intervento da parte dello Stato in una situazione analoga come quella che stiamo a cercare non riesco a ferrare perché non conosco l'episodio non riesco a ferrare perché non conosco l'episodio allora Auriti che era un professore di diritto internazionale in particolare specializzato in diritto maritimo aveva fatto un po' per professione un po' per ricerca personale aveva fatto varie indagini che noi adesso ancora adottiamo a proposito della reale figura della moneta della banconota aveva organizzato una specie di rivolta diciamo di plateale una specie di rivolta plateale emblematica con i commercianti del suo paese lui era di ci sono andato pure a fare una conferenza vicino a Chieti come si chiamava il nome? eh non mi è in mente guardia grele guardia grele guardia grele che sta vicino a Chieti ci ha fatto una conferenza nel 2005 2006 proprio sulla banconota e lì lui aveva organizzato i commercianti i dati giani eccetera allo scambio che era sarà stato nel 1990 il 1993 così 1994 una scambio alla Mari con la Lira aveva fatto dei tagli dell'uminalire del Simec di una moneta era chiamato Simec che è un acronimo che non mi ricordo più che significava e lui dopo poco perché la cosa funzionava funzionava e lui è durata due o tre mesi come la banca di Caglia se ne ha accorta e ha mandato addosso i finanzieri e l'hanno denunciato per questa cosa qua la denuncia della fattispecie era di la raccolta di denaro pubblico no di denaro pubblico la raccolta di di denaro raccolta di denaro perché lì pratica l'economia del locale era esplosa perché non avevano più le banche che mungevano che succhiavano e quindi la richiesta restava lì non è che davano esplose in senso positivo grazie a questa iniziativa perché era solo tra gli artigiani locali che si manchiva lì non è che allora poteva il comune e poi lui non so se fu sottratto tutto il denaro che circolava tutta la banconota che circolava poi lui non so se lui è stato denunciato non mi ricordo più esattamente se c'è stato il processo o no però mi ricordo che lui aveva denunciato invece la banca d'Italia ha fatto il primo processo ha vinto il secondo processo non ha più vinto perché praticamente la magistratura la magistratura no siccome è l'uso è di costume da millenni che le banche abbiano questo tipo di comportamento il comportamento non è previsto come reato per consuetudine sì anche se è vero hai ragione è reato tutto vero però siccome è l'uso con la stessa cosa con la risposta a me allora aspetta quindi non hanno più condenato dello signor no no è stato scazionato e dunque che era successo perché in quel caso lì non era la banca che era a causa la banca quindi auridi la prese 6 costi no no lui hanno sottratto tutto però poi finita lì no ti volevo di quest'altro vuol dire l'infamità della magistratura allora abbiamo fatto lo dico anche per quelli che mi ascoltano che probabilmente qualcuno già lo sa però dunque fra il 2010 come dicevo poco fa a franco 21 giugno del 2010 fino al 2018 17 così no forse meno 16 16-17 ho prodotto non so forse una ventina trentina di querele contro la banca d'Italia fra gli altri e a un certo punto la procura della Repubblica di Roma ci ha avuto un sussulto di legalità di dignità e legalità e che hanno fatto hanno detto sì incartiniamo questo processo erano una ventina di querele 300 pagine di documenti non qualcosa 300 pagine di documenti un giorno mi telefona Giorgio e mi dice guarda che ci hanno chiamato quelli della Guardia di Finanza e dovevano andare a depositare una testimonianza telefono anch'io perché adesso Giorgio guarda quello che sa tutto se te parla di te non dite che c'è parlo io telefono dopo varie volte riesco a contattare il suo maresciallo suo tenente tenente e questo dice guarda vieni giorno tale e quindi siamo andati io Giorgio un nostro amico avvocato Maurizio Cerchiara e siamo andati lì e quindi poi hanno chiamato loro e prima loro non sappiamo niente parla l'Orazio vado lì e insomma tralascio tutte le cose che sono successe in pratica alla fine dopo che avevano tentato tutti i modi di farmi recedere dal testimoniare ancora perché quello era la questione anche io ho raccontato un po' di cose facciamo così allega le 20 le 18 quelle che sto querelle che ho mandato la procura della Repubblica nel corso degli anni fai l'elenco io te lo firmo e poi alleghi queste altre 150 200 pagine di altri documenti che avevo portato quel giorno e questo è stato fatto incredibilmente dunque questo è successo a maggio a luglio mi arriva la notifica che l'atto cioè il procedimento era stato archiviato e quindi se volevo fare come è normale la posizione ok c'è l'erdo che mi oppongo ascolta allora io e Giorgio andiamo in procura della Repubblica aspetta io e Giorgio andiamo alla procura della Repubblica e che per vedere le motivazioni per cui avevano tentato di archiviare e ce l'ho se volete poi lo pubblico perché è di una infamità assoluta allora che cosa allora questo andiamo a legge e il tenente che l'aveva fatto giustamente e pedisequamente aveva aderito alle ragioni e motivazioni logiche giuridiche legali eccetera per cui il reato c'era e l'acquisito quest'altro eccetera e lui il tenente relazionando al colonnello aveva scritto ed era legato appunto agli atti lui ha fatto la relazione la relazione al colonnello che poi era il colonnello è l'equivalente del direttore generale che è quello che stabilisce effettivamente la giustezza o meno della conclusione che ha fatto il suo sottoposto lui faceva la sua bella relazione perfetta che dice sì il presidente della Repubblica il presidente della Banca d'Italia il governatore della Banca d'Italia il presidente della Corte dei Conti il presidente del 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 oddio come si chiama non mi ricordo mai vabbè insomma di un altro ente dello Stato hanno fatto queste cose qua queste cose qua sono penalmente perseguibili e è fondata la richiesta del Sittarino Razzio Perniani Giorgio Vittagli io sono stato un giorno intero dalla mattina alle 10 fino alla sera alle 5 senza mangiare un boccone a depositare lì ma non è veramente dentro non è mica scherzi non è che è una mica scherzi non è che è una mica scherzi non è una grande di niente non è una scherza insomma fatto sta che sono riuscito a cominciare quello che era vero vado a leggere la relazione del colonnello senti che dice le parole esatte non mi ricordo più è vero quello che dice Orazio Perniani e Giorgio Vittagli che effettivamente i fatti ci sono sualti così che effettivamente le responsabilità sono da rifaricateli a Presidente della Repubblica Presidente del Cominatore della Banca d'Italia Presidente della Corte dei Conti eccetera tutti quelli ne leggo che non ti dico più però però siccome loro non sapevano di delinquere non possono essere accusati di essere delinquenti cioè uno che è Presidente della Repubblica Presidente del Governo non sapeva che quella cosa è legittima ma pure se non lo sai te ma c'hai una squadra un drappello di 450 test di cuoio test di uovo test di cavolo che stanno lì a servire quando gli servi e tu dici che non lo sapevi questa è una registratura italiana se vuoi faccio il quadretto io ieri ho messito uno con la macchina però non sapevo che l'aveva fatto male e quindi che cosa allucinante non mi l'ho fatto reale in estrema testa è una pagina di cazzate per cercare di giustificare ma è per questo che dico qui il problema non è che cosa fare è farlo e se farlo chi farlo e ti sto dicendo farlo vuol dire farlo tanti cioè capite il problema non è se non mi fai spiegare adesso fammi finire è chiaro allora uno la cambiare sociale la puoi mettere chiunque chiunque che abbia compiuto legalmente 18 anni che entra nella possibilità di firmare degli atti dei titoli allora la cambiare al contrario del euro per esempio è un titolo il titolo significa che rappresenta un valore rappresenta un valore un titolo l'atto d'acquisto di casa quello è un titolo e se tu vuoi venderti casa ti avrai c'è il titolo se no non puoi venderla alla casa è chiaro? e il titolo fra l'altro stabilisce tutta una serie di parametri se tu hai un'automobile e hai l'atto di compra vendita la carta complementare come si chiama che dice che quella macchina è tua e te la puoi vendere perché se non hai quell'atto non te la puoi vendere così per qualunque cosa capito? quindi se tu hai la possibilità di avere quell'elemento tu puoi farlo altrimenti non lo puoi fare quindi l'euro non sa se tu ti ricordi bene i primi euro non ci avevano scritto niente mo ci hanno scritto qualcosa ma molto poco e il titolo deve averci il nome di chi lo emette e quindi del Presidente della Repubblica o comunque del Ministro del Tesoro o comunque senza nessuna possibilità di illusione il nome e cognome del cassiere della Banca d'Italia o del governatore ci deve essere la data di emissione la data della legge che permette quell'emissione quindi non vale l'euro non c'è un caso non c'è scritto niente il numero di matricola il numero quindi non ha valore non c'ha nessun valore infatti infatti per poterlo scambiare hanno dovuto fare una cosa rarissima che è messa proprio in momenti in cui i stati stanno sforzati la corsa a oddio come si dice a titolo forzoso il corso a titolo forzoso i prelievi non ti puoi tu cittadino non ti puoi rifiutare di contribuire di riceverlo quindi non è più una cosa come si dice portavista come è che si diceva una volta infatti non era a titolo forzoso la lira era pagabile a misa al portatore come la stragrande maggioranza e tutti gli altri questo te lo devi prendere per forza te lo devi prendere per forza perché fra l'altro questo contraddice questo contraddice questo contraddice al vantaggio dell'attuale governo che vogliono mettere in circolazione e togliere la circolazione la banconota il denaro contante non si può fare perché fra l'altro a corso forzoso ed è qualunque bene è pagabile solo tramite legalmente tramite contanti fra cui per di più a titolo forzoso quindi che loro si inventano adesso una legge contro l'utilizzazione del denaro contante creano una violazione un bullus assoluto al codice civile però una dietro l'altra le violazioni che fanno non è frega un cazzo ma infatti possono fare quello che vogliono l'hanno già dimostrato adesso possono fare quello che vogliono solo di questo dobbiamo prendere però prima o poi tranquillo non lo pagano adesso non fra un anno fra 10 fra 20 prima o poi arriva ma qui il punto è un altro noi che ci dobbiamo dire che tutte le frodi che fanno o ci dobbiamo dire che cosa facciamo di fronte a uno che fa solo frodi abbiamo questo un gruppo allora noi siamo nella legalità e rimaniamo nella legalità loro sono degli delinquenti la magistratura è per la maggior parte composta da delinquenti ancora vediamo adesso sta dicendo di Palamara è la vernice tu non sei mai attaccato qualcosa che è trappelato o un capo espettore è un delinquente utilizzato come capo espettore cioè nel senso che è un delinquente di mezza tacca perché se quelli importanti non li toccano ma l'ha detto anche lui ieri sera in televisione ha detto ma io mica l'ho fatto da solo quello che mi ha giudicato e mi ha estromesso dal consiglio superiore della magistratura la situazione nazionale magistrale era quello con cui ho fatto l'affare quindi se sono colpevole io sarà colpevole pure lui l'ha detto in televisione l'ha detto in televisione alla fine di Grazi che quando lo vogliono mettere in fondo dice poi voce tutti allora fa la voce la fine in Italia la doma me e beh appunto ce lo mandano lui ha fatto un errore madornale lui doveva dire io sono innocente e quelli sono delinquenti perché io sono le prove ma io sono innocente lui ha detto no siamo tutti nello stesso calderone ha fatto un errore madornale errore per la propria incolumità o per la strategia per la strategia di tutto non dove mai ammettere di essere colpevole mai in assoluto pure di essere colpevole beh però se ammettere di essere colpevole diventi più credibile col fatto che sono colpevole infatti si vede che fine ha fatto lui e che fine hanno fatto gli altri no parlo del consenso popolare non parlo non parlo di quello che poi allora per donare il discorso quindi la cambiare è un titolo è un titolo al portatore quindi chi lo porta è il proprietario non so a dire ve l'andate a legge qua poi eventualmente come va fatta la cambiare va compilata ma soprattutto nella compilazione alla parte dietro per ovviare a una legge del 2011 anche lì va scritto non trasferibile perché se fosse trasferibile poi subentra un altro codice una serie di altri codici che non è non è qui il caso dell'esaminare che siamo qui 30 anni allora quindi non trasferibile dietro sulle girare dove c'è scritto conoscete una cambiare no? adesso adesso le faccio vedere adesso le faccio vedere grazie allora lì c'è scritto girate la parte posteriore lì ci puoi mettere tutte le girare oppure ci metti non trasferibile eh? non trasferibile non trasferibile a che promette non trasferibile? eh perché c'è una cosa importante da dire allora la cambiare sociale è molto all'arco un po' il campo non è una ma sono almeno due allora è quella ordinaria la cambiare sociale ordinaria che è quella di cui abbiamo parlato nella testa esiste poi la cambiare sociale privilegiata cioè quella che mentre questa qui decresce del 2% al mese che invece rimane stabile perché? perché è quella utilizzata dalle imprese dall'industria e dalle attività in generale come pagamento ed è un pagamento quindi deve rimanere stabile per non demotivare chi ha già un'altra formamento e chi fa la produzione però anche sono tutti gli imprenditori sì e quindi che cosa succede che quella non c'ha interessi non paga interessi quindi non è che decresce ogni mese di più ma rimane sempre stabile ma non paga interessi quindi rimane quello se è mille è mille oggi fra un anno fra due fra quattro la cosa importante da dire è che però quella cambiare lì è rinnovabile ad lipidum cioè quando va in scadenza dopo quattro anni perché tutte le cambiare sociali vanno a scadenza al quarantottesimo mese quella cambiare lì va automaticamente rinnovata e mentre le altre vanno a zero quindi non c'è bisogno di nessun intervento da parte delle banche ma la cosa più importante di tutte è che esiste una sentenza che dopo ve lo dico del 2001 o 2002 la privilegiata comunque può essere sia trasferibile che non trasferibile non è anche quella no non trasferibile ah la privilegiata non è trasferibile non trasferibile proprio perché non deve uscire dal circuito ah ok perché deve essere solo un certo circuito è certo deve essere deve rimanere e qui il circuito ha solo un utente un utente single o solo no perché la fa a nome dell'associazione che controlla il circuito allora vi spiego no vi spiego un'altra cosa la cambiata sociale quella eh oddio privilegiata privilegiata o cominciamo a perdere i conti la cambiata privilegiata che naviga solo da business to business cioè da azienda all'azienda sì eh è quella che va all'intorno del circuito cioè non è che la puoi fare dovunque devi fare all'interno di un circuito un circuito di libero scambio che in genere diciamo associa le zone industriali o un comprensorio di zone industriali tipo attorno a Bologna c'erano zone industriali varie no? e associa 10-20 zone industriali a cui interno loro c'erano 100 aziende 50 aziende 1000 aziende eccetera queste società queste aziende scambiano il valore attraverso la fatturazione mensile cioè fanno quelle triangolazioni che tu hai capito bene cioè io compro da te lui compra da lui lui compra da lui poi io compro da lui in modo che alla fine del mese si compensano ovviamente ci saranno degli squilibri perché è normale che non puoi aver comprato 1000 euro te e venduto 1000 euro io comprato 1000 euro io lui e così via e quindi è chiaro che c'è uno scompenso questo scompenso normalmente esistono già questi circuiti ce ne sono che ne conosco io una ventina e fanno utile la grande scompenso nel senso che uno pur di girare e di usarla dice vabbè devo comprare un servizio che ne costa 900 anche se non ho venduto da 1000 e uso lo stesso ma no perché tu fai le fatture fai le fatture no si compensano vanno in compensazione vanno in compensazione no quindi poi se non corrisponde io devo un po' tu hai venduto 1300 euro e lui ha venduto 950 e lui dovrà portare in pareggio con te il bilancio no il bilancio dell'interscambio deve vareggiare no non fra te e lui ma all'interno del circuito di compensazione lì ci sarà una società un'azienda un gruppo un software quello che vuoi che avrà due o tre persone pagate quindi parliamo di lavoro anche di creazione del lavoro che saranno lì contabilizzeranno commerciali e commerciali esteticamente gli interscambi per cui a un certo punto che succede che non basta non c'è compensazione attualmente che cosa fanno alla fine del mese quelli che devono dare i soldi pagano con gli euro invece in questo caso qui pagano con le cambiali ma cambiali che praticamente non hanno mai scadenza hai capito? anche quello in cambiali non hanno mai scadenza ma se non sono le previneggiate perdono quel valore ogni mese no le aziende trattano solo privilegiate solo privilegiate alcune aziende che vendono al dettaglio possono trattare sia quelle privilegiate che quelle ordinarie ma non andiamo troppo nel dettaglio ma se non sono trasferibili questi cambiagli verso chi possa spenderle? non sono trasferibili le cambiagli non sono trasferibili sono da dare solo alla società di gestione del controllo di questa associazione di scambio si chiama che ne so Giovanni le cambiali di compensazione vanno a Giovanni il quale Giovanni poi ripartirà a sua volta non trasferta sul controllo la cambiaglia non trasferibile significa che l'azienda che emette quella cambiaglia la emette anche un credito che è un'altra azienda a sua volta può essere in quel lato no è un'altra azienda sempre le cambiali sociali privilegiate solo per questa andare all'azienda di controllo all'azienda quella che sta al centro hai capito? l'azienda che sta al centro il gestore l'azienda che sta al centro che creeremo noi o chi sia per noi quell'azienda lì a sua volta emette una cambiata sociale di uguale cifra di quella che era in scompenso ok facciamo l'azienda 1 doveva dare 100 euro all'azienda 2 esatto allora azienda 1 deve dare che ne so 100 euro all'azienda 2 azienda 1 quindi acquista dall'azienda 2 lascia stare che acquista quindi aspetta l'azienda 1 ha un debito verso l'azienda 1 e l'azienda 2 ha un credito esatto e col credito lì come lo può fare? questo scompenso si dà facendo una seconda triangolazione cioè fra il debitore e il gestore Giovanni abbiamo detto Giovanni il quale Giovanni emetterà a sua volta una cambiale non trasferibile trasferibile all'altra azienda che privilegiate ecco il perché poi sarà possibile utilizzare la sentenza di cassazione che dopo ti leggo che permette di non pagare le tasse su quel trasferimento di fatturazione fino a che la cambiale non sarà andata in pagamento ma siccome noi in pagamento non ce la mandiamo mai hai capito? con la società terza super parte serve per questo serve per non andare mai in pagamento hai capito? e quindi non pagarsi mai le tasse hai capito? non ancora allora intanto un piccolo paziente giurerà un po' quel gioco perché prima o poi interverranno ora già è legale queste due tipologie di cambiari sono già regolamentate da tempo nel senso che esistono non è un no non ci arrivo aspetta qua ci avete sti cambiari quando hai detto su sto vegano manchi l'osso ti punti in politica? chissà hai un'idea? sì 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 cioè a sto punto è comune di Ginevoragna eh sei in un comune di Ginevoragna no ah Boragna è un'amministrativa comunale della cross si raccomandare la sua rinca è un'altra ma che partita ah vabbè ah perfetto allora le cambiali sono queste quelle ufficiali ad una mediterranea anche come l'entilista può dare eh vabbè sentiremo gli altri eh Enrico potrebbe essere uno di questi perché ci vuole comunque una formazione minima per poter accedere poi è chiaro che gli attivisti saranno quelli sull'uomo allora le cambiali sono queste eccole quelle vere quelle vere cioè questa è una cambiale qualunque uomo cioè che differenza c'è una cambiale normale una cambiale sociale inutilizzo oppure anche la malattia allora legalmente sono uguali sotto il profilo legale ovviamente la cambiale locale è uguale ma queste te le sei stampate tu o sono retto se è di fronte che retto ah ok nel senso che tu dici questo è uno strumento con cui io posso comunque legalmente fare un pagamento e te le sei stampate e poi ci sono le istruzioni le hai stampate o le fate stampate queste le ho stampate io come tu attraverso che di questa parte questo è ma ti chiedo orazio se io ad esempio qua metto verso di lui una cambiale sociale quindi non è privilegiata eccola qua tu no tu sei privato eh ma no e appunto non la metto privilegiata la metto normale e quindi io consegno mille euro a lui perché lui mi fa un servizio mi vende un bene o qualcosa lui con questo a cambiare qua gli serve uno euro oppure fa girare la stessa cambiale perché non deve essere trasferibile ed etana e quindi come si fa girare la cambiale o come si fa girare il valore fra fra azienda gira fra azienda e azienda e basta e te l'ho detto tramite questa triangolazione con Giovanni con il centro di gestione per le altre girano come vuoi ah quindi sono trasferibili gli altri non sono trasferibili però se lo stesso mese non perde niente perde perde 6-8% da 1000 euro va a 900 orazio la cambiale perde anche valore nel passaggio singolo o solo nel mese questo invece è la cambiale che qualcuno può produrre cioè quelle che erano erano in filigrano no? queste invece no quelli che hai fatto le decine erano in filigrano questo lo ha nelle cambiali messo in modo ma orazio se qualcuno invece decide di metterci sul bollo è un titolo che tu hai emesso garantendo un valore allora il bollo è in legale e quindi va in banca o va o va in tribunale e ti dice oh qui qua tu mi devi dare 1000 euro lo potrebbe fare lo potrebbe fare allora è legale è illegale il bollo il bollo è illegale allora allora lo fanno passare per obbligatorio mentre in realtà non è obbligatorio per niente ah no nel senso che fare un assegno impostatato è evasione fiscale perché manca il bollo e fare una cambiale invece no perché c'è il bollo no quello che dicono ma l'obbligo del bollo non è assolutamente da nessuna parte anzi l'articolo 104 che ho detto prima del decreto reggio eh? del decreto reggio? sì è l'articolo 104 del no sì eh quello è perfetta ci hanno sfruttato praticamente anche sotto sto profilo mentendo e dicendo che era obbligo il 12 per mille o adesso il 13 per mille sì in realtà non è vero niente è stato l'articolo 104 dice esattamente il contrario dice che la cambiale la cambiale è esente dal legge sul bollo che vuol dire? quindi è illegale sul cambiale sociale il bollo? no è illegale sul qualunque è cambiato anche sulla cambiale normale ho fatto una denuncia tempo fa per furto e truffa di 700 miliardi di euro 700 miliardi di euro da 1933 a oggi era un calcolo approssimativo ma questo è no te lo dico questo qua vedi? c'è scritto? servizi per le aziende ecco questo è un book adatto per per un venditore di associazione tu vai in giro uno vai in giro per le aziende e c'è tutta una serie di elementi qua di motivazioni perché conviene associarsi a questa cosa qua perché conviene sul serio non conviene per modo di dire non devono tirare fuori una lira devono solo firmare cambiati firmare cambiati per ottenere tutta una serie di cose di egevolazioni tra di loro la possibilità di lavorare fatturando in euro ma pagandoli in cambiati locali e così via insomma ecco quindi qua ci sono tutte le motivazioni sotto il profilo lavorativo per un reggente che va in giro per diciamo a catturare nuove acquisizioni certo che poi sono adesioni adesioni senza una firma di un contratto sono adesioni nel senso che no no c'è un contratto ma senza nessuna referenza nel senso che devono adedire quantomeno al gestore centrale certo devono adedire al circuito quindi per esempio c'è la visio trade SPA che è una commerce la versione la proponi gratuitamente o l'ere no c'è un attitolo no no ma in cambiati sociali per cui loro non tirano la cuore nella lina tra l'era e quella non è noi sicuramente a qualche momento non so se è chiaro il concetto non abbiamo interesse a truffare la gente per poi fare cioè che figura di merda faremo allora visio trade SPA il commerce network l'idea per risparmiare liquidità incrementare le vendite e uscire da crisi economiche questa è la pubblicità di questa visio trade che è la maggiore e l'anno scorsa ha fatto 240 milioni di fatturato di transattura quindi non è una scherza chi è che ha fatto 200 milioni di fatturato ecco va il commerce network è forte oggi dell'adesione di 2500 aziende per un valore complessivo transato di oltre 22 milioni di euro credit ha dato 2012 mentre nel 2013 ci sono superati 50 milioni ma sta dicendo di 240 ma in Italia sì visio trade legge guarda legge cosa visio trade visio trade visio trade spa se vai qui in internet vedi chi sono e loro hanno aderito a un circuito di camion di transattura ah ok questo è uno ma ce ne sono una ventina che conosco io cioè ti sto dicendo delle cose che la gente non lo sa ma esistono e trovo visio trade visio trade queste sono sempre loro c'è un po' poca visio tra lì ma fanno network questi fanno network perché quella cosa che ti ho detto che adesso io però questo vale me come l'hai fatto tu certo lo fa bene no però anche tu anche loro vedi ma loro l'hanno fatto e e tu l'hai individuati e l'hai studiati oppure loro sulla scorta dei tuoi consigli hanno fatto questo no devo dire che è stato il contrario è stato il contrario perché loro erano un po' più avanti facciamo che con la scusa di aderire abbiamo fatto un giochetto hai capito le informazioni non tutto quello che noi già c'eravamo un bel po' però quello che ci serviva ci serviva di vedere come fare come fare a fare questo abitare poi abbiamo fatto le modifiche perché loro fanno diversamente ovviamente fanno il pagamento in denaro la cosa più importante invece no no contrario noi diamo credito al contrario di loro loro tra l'altro ogni transazione loro prendono il 10% se tu fai si prendono il 10% ecco è come una provvigione di un agente un agente che ti fanno fare un affare e ne devi di rispetto fra l'altro il fatturato non faresti niente la tua azienda quello che loro vanno a fare no quindi però c'è sempre un po' come il cashback eh è un po' come il cashback eh io ti mando dei clienti che se no non perderebbero e tu fai lo scolgo loro e dai non lo seguito no adesso ci sono i circuiti di cashback cioè società che vanno a proporre poi è aria però aria produce un sacco di soldi cioè società che mandano clienti in certe aziende e tu a questi clienti in nome di questa adesione fai uno sconto e in più una parte di lei a me ah si si ma ce ne sono varie anche lei riconosce una il multilevel marketing anche lui lei riconosce una mi voleva pure entrare in collaborazione ma non è network marketing eh è affiliate marketing che in 12 mesi sono arrivati a 27.000 iscritti ah per carità i pollici ne sono quasi pochi no no ti si triplicano in buoni in buoni spesa loro usano in buoni spesa per esempio tu investi 500 euro e e poi ti si triplica in tre anni a 1440 buoni spesa che puoi spendere anche a amazon dappertutto cioè in tanti posti hanno 103 sempre soldi devi usare sempre euro devi usare si però sono buoni spesa allora loro adesso sono sono buoni spesa in relazione ai soldi che versi si ma tu ci scusa eh se tu puoi acquistare triplicato il tuo investimento scusami eh io devo ancora ne devo vedere uno di questi allora ti ho detto mandami il materiale te l'ho mai mandato si te l'ho mandato e tu mi hai detto non l'ho ancora letto però rimandamelo perché non l'ho letto però te l'ho mandato va bene allora e tu pure hai fatto telefonare da uno di loro per prendere appuntamento si si ma io non l'ho ricevuto questa telefonata si avete parlato si ah si quel ragazzotto è vero è vero ma per carità uno che era proprio un profito per non di peggio ma no ma lui voleva solo parlarti perché tu avevi delle domande io si sul locato che poi ti avevo mandato e quindi eh lui cercava di rispondere a queste domande per poi prenderti appuntamento col vice presidente il presidente si si no no è vero non è che lui doveva ho visto l'andato adesso non si attenzione ma chi mi ha detto l'andato no no vabbè ma hai perso un circuito perché ma io con quella gente lì non ci voglio avere a che fare io voglio avere a che fare con gente come Pietro come lui con quella gente lì non ci voglio proprio manco disturbarmi a pensare che dico hai bisogno di un circuito loro sono già pronti per nuovi modi di spendere soldi o fare si ma uno che ha un flash un retroscena come quello ma che retroscena sono già nuovi sono diciamo ma uno che mi fa il multilevel io il multilevel non è il multilevel l'ho portato in linea nel 71 nel 71 ma non è il multilevel no si chiama affiliate network che è un'altra cosa anche come legge sono nuovi che vogliono in qualche modo introdurre un nuovo modo di spendere e quindi ti si triplica tu hai aderito? io onesta no allora onesta non hai aderito no ti spiego allora praticamente se dai un top al mese puoi aderire anche ok e quindi sto facendo quello dopo un po' al mese poi dopo un po' di mese però poi ce l'hai per tre anni c'hai i buoni da spendere ogni mese vabbè io spero che non prendi un'altra fregatura come è già successo tante altre volte tu non sei nuova quindi lo sappiamo che si vabbè allora ragazzi andiamo avanti sì certo allora per tornare al discorso quindi da una parte ci sono i cambiari sociali ordinari che hanno un modo diciamo operativo distributivo diciamo organizzativo che è fatto come abbiamo detto emissione chiunque sopra i 18 per esempio se uno è esposato e ha 5 figli come con l'amico Pietro lui prenderà 5.000 euro al mese non 1.000 perché ognuno dalla nascita alla tomba tu puoi mettere le cambiare sociali anche per il bambino non puoi mettere niente però lo può fare il padre o la madre a secondo e quindi loro sono 7.000 al mese ah 7.000 ecco lui potrebbe immagina lui 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 deve tenere immediatamente ricco Pietro diventerebbe immediatamente ricco perché 7 perché ha 5 figli e lui è la moglie ma sono in 7 uno per uno capito no tu sei lavorato quindi quando sei maggiorelli e tu e allora niente ti attacchi io ho 2 figli che però anche se stanno aumentando il tempo con me anagraficamente sono provocati hanno una l'attivizzazione privilegiata anagrafica quando non puoi lavorare ah e vabbè sarà lei che prenderà la mia e quindi tu non mi dirai più niente ah sì no no ancora un pochino si è stancata io devo andare a focene non so se no poi come fare non ci sono più tre di da per una certa io devo andare a focene dopo e non ho macchina non ho metti quindi focene è vicino ma come sei venuto adesso eh come sei venuto con tre sono venuto da focene a piazza del popolo dove ho incontrato Pietro e con Pietro sono venuto fino qua e devo tornare a focene entro una certa ora se no mi devo fermare qua a dormire entro qua e guarda se vuoi dormire guarda qua non c'è molto no no ma non è bene sei gentilissimo però sono sempre contento di tornare insomma non voglio pesare ma come fai vieni fino a lì che c'è non è una passeggiata sono 140 km se andate a ritorno da qua a focene 120 km vabbè per quello che verso una certa ora vorrei essere su Roma per poter prendere il treno e andare verso il barco Leonardo capito non so se dopo le 8 e mezza non ci sono più i treni questo lo voglio dire no provala su internet eh guarda qui internet comunque ah ok sono le 8 sono le 8-10 eh lì stiamo sempre registrando eh si andiamo avanti ehm quindi allora c'è qua una parte dei cambiari ordinarie cambiari sociali ordinarie che hanno questo loro iter svaniscono dopo 48 mesi sono eh a disposizione di tutti i cittadini per zero anni alla morte ehm sono trasferibili eh possono essere diciamo mobilizzate eh per tutte le possibili evenienze d'acquisto di prestazioni eccetera il comune li può sponsorizzare e quindi in qualche modo accettare accettare anche per pagare i tasili comunali eh i servizi di vario genere insomma però non li può mettere lui e anche per per pagare le tasse comunali quindi chi le mette le mette la cambiare se non credo le mette il soggetto ma c'è io sono ok però poi bisogna fare una legge che impedisce a a un soggetto di metterne più di quelli che sono i parametri di ma quello già è così allora ah esiste già tra l'altro esiste diciamo la possibilità teorica diciamo appunto eh cioè è già normata in quel modo lì prevista no prevista di eh essere garantiti a scanso del fatto che qualcuno le possa mettere in banca perché se qualcuno le mette in banca subentra l'assicurazione che eventualmente vuole intervenire eh per diciamo in qualche modo sollevare l'emittente dalla sua responsabilità e quindi pagare non ho capito scusami il circuito a cui aderisce o quel 4% deve iniziare ah ok allora simula una polizza assicurativa anche il privato aderisce un circuito perché va a gestire anche quello ok quindi il circuito gestisce in un caso o nell'altro sia la privilegiata che l'ordinaria ok perfetto quindi diverso è lo stesso circuito interagenti possono interagire e poi vi spiego ah ma non l'unico possono interagire ma devono essere due esatto ok dopo lo spiego come possono interagire a senso unico perché no dopo c'è l'unico quindi quindi praticamente c'è questa cambiata sociale che può essere utilizzata diciamo dal privato cittadino o anche dai professionisti dai proprietari di un'azienda però come privati viceversa le aziende emettono fattura calcolano l'IVA ci dovrebbero pagare le tasse in realtà poi siccome diciamo a seguito di questa sentenza della corte costruzione il pagamento delle tasse avviene nel momento del pagamento effettivo della cambiare della bancazione della bancazione e pagamento alla scadenza della cambiare nel momento che non avviene col fatto che la con la non trasferibilità appunto che è quella che prevede l'annullamento temporaneo del versamento delle imposte viene data da cambiare non trasferibile a Giovanni che abbiamo detto è il centro dell'agentità e Giovanni poi paga sempre con un cambiare non trasferibile l'azienda creditrice quindi l'azienda creditrice ha un credito che potrà usare nel futuro la utilizza con le altre aziende per comprarsi materiali non da quello che gli deve i soldi ma da altri quando hai migliaia come hai letto di 2500 aziende c'è questa società qua 2500 aziende quello qualunque cosa devi comprare probabilmente il 70% del tuo fatturato è quello l'acquisto di beni di merci di servizi eccetera quindi il 70% del tuo fatturato lo puoi pagare in cambiari sociali capito tu che sei imprenditore capito anche te ma hai detto qualcosa e poi dopo era abbastanza importante allora ma era una di quelle domande di prima o adesso? allora insomma niente quindi con le cambiari sociali trasferisci l'utilizzo del accumulo di valore lo metti lì nell'angolino che quando ti serve ce l'hai capito a un certo punto ci saranno le privilegiate tua azienda che vanti dei beni di correale l'ultimo anno che ho fatto ti avevo chiesto se la cambiare sociale perde valore solo a seguito della scadenza del mese o anche nel passaggio nel giorno del passaggio dalla data quindi ci sono tu firmi la data 18 ottobre 2020 passerà sempre nel 18 novembre 18 gennaio 18 e così via del 2021 quindi la cambiare sociale ha due passaggi ha due elementi di perte di valore il mese e la tratta cioè se nell'arco del mese se nell'arco del mese sta stessa cambiare fa tre passaggi perché io nessun passaggio nessun debito nessun pagamento solo il tempo solo l'emissione la gestione temporale che questa è la domanda mentre la cambiare sociale privilegiata potrebbe avere se ne misura poi l'adattamento nel conto della prova delle prove iniziali in primi periodi potrebbe essere che non il 10% ma magari un altro 2%, 3%, 4% sicuramente il 4% che è quello della cambiare ordinaria a occhi chiusi poi in transazioni ovviamente potrebbero essere anche 1-2% ma non di più la privilegiata però non perde valore col tempo no no assolutamente perde valore quando lo fai in transazione quando lo utilizzi come si pagasse con la carta di credito certo il 4% va a Giovanni il gestore la domanda di prima era quando io emetto la cambiare sociale a me medesimo per ricavare le 1000 euro di reddito di garanzia di cittadinanza se lui decide di convertirla in euro e quindi ci mette su i problemi da marchio a bollo o quello che farà e invece non è coperta dalla garanzia perché ovviamente verranno anche i amici sono io che metto quel titolo no è l'assicurazione il circuito sia quello ordinario e quello privilegiato simulano delle convenzioni assicurative con una o più compagnie assicurative e faranno in modo perché anche il videotrader che abbiamo visto prima ha previsto una cosa del genere per le insolvenze perché qualcuno potrebbe fare segni a vuoto e anche loro hanno previsto appunto l'assicurazione che è una cosa che abbiamo rubato a loro questa effettivamente un'assicurazione che garantisce di poter riscuotere quel credito la mancata riscossione del pagamento ma può cambiare in euro nel caso di conversione in soldi in questo caso oppure sì nel caso che qualcuno va in banca e banca appunto la cambiare allora siccome la cambiare è sociale ci mette 48 mesi arrivare a zero ma se nel frattempo io la do a lui e lui vuole cambiarla e avere invece euro lui va e cerca di avere gli euro allora ovviamente dopo vengono da me a dire oh ma tu hai messo questo titolo ma lo paghi appunto c'è l'assicurazione che fa queste cose qua ok ma però sarà dopo quelli dell'assicurazione che vengono dati di oh guarda c'è l'assicurazione proprio per queste cose qua l'assicurazione è proprio per queste cose qua nel caso che qualcuno allora si potrebbe studiare anche diversamente invece del 4% utilizzare magari 6 e quel 2% a fondo di garanzia di quelli che non pagano speriamo pochi in genere il 15% era quando giravano tantissime cambiali negli anni 70-60 il 15% non erano onorate e quindi in quel caso lì qualcuno sapeva prendere in tasca ma l'economia in generale il 15% era facilmente assorbibile capito? a me personalmente tante volte quando c'è un'attività commerciale tante volte qualche volta mi è capitato degli insoluti la volta l'ultima volta definitiva ho avuto tre catene di supermercati che mi sono saltati in contemporanea fra febbraio del 90 e luglio del 90 ah perché tu l'impresa hai già facendo girare questa cosa qui no no io facevo l'imprenditore facevo l'importatore fornivo i primi catene di supermercati che c'erano all'epoca qui nell'Azio l'Elepivo quasi tutte anzi tutti e appunto tre di queste catene di supermercati nel giro di da febbraio a luglio del 90 mi sono saltati una presa all'altra e io ho avuto l'attività quando ti arriva una botta leggere ero diciamo abbastanza attento tre tre catene di supermercati come fai a prevedere non prevedere non prevedere tre catene di supermercati ti cascano al dolce così che via quando sono andato in banca a chiedere perché ogni anno siccome gli agravavo le baffe di salmone con la tavoletta del gente a Natale a tutti i direttori tutti i direttori mi dicono ma dai ma perché non prendi 100 milioni parlo del 90 o anche lì 100 milioni dai così ti fanno vedo che nei giri ti servono perché vedo che ogni tanto vai fuori conto e vabbè ma dai nel momento in cui sono andato a chiedere eh ma tu non sei più sorvibile cazzo non sono sempre io è quello che ho tentato infatti avete continuato a stare il da peperosso per la rapida adesso no cioè quando veramente ti senti rispondere così ti incassi col mondo non solo con il testo di cazzo che c'hai davanti ok e quindi altre domande sì allora vediamo diciamo di andare no ok portare se bisogna no ma il potere di ridistribuzione del reddito da parte del sindaco da parte del sindaco cosa vuol dire il sindaco ha potere di ridistribuzione del reddito sì perché il sindaco ha la possibilità di dare delle assistenze può dare dei finanziamenti quindi è titolato per erogare questo tipo di assistenza ok va bene qui approfondiremo ti ho mandato il link della legge dell'amministrazione comunale adesso diciamo il messaggio adesso io me lo stampo perché io me lo leggo però se non sono l'unico a leggere è meglio perché insomma più testo e lavorano meglio e quali vincoli legali hanno ah quali vincoli legali hanno i salari hanno i salari i salari hanno dei vincoli legali cioè nel senso delle tariffe i salari beh ci sono gli accordi sindacali quindi ah ok ok nel senso lì e perché avevamo parlato di salariari prima non c'è salariari perché una volta che si stabiliscono i salari minimi e quindi devono essere salvo diciamo riunione plenaria fra rappresentati del governo industriali non è non è gestibile a livello comunale questa cosa qua ok ma prima parlavo della legge lorentina e anche il sindaco mi pare che è il primo responsabile della salute dei cittadini che insistono su quel che è il tariffa motivato da sicurezza però motivato da sicurezza nel senso che il principio di precauzione siccome i vaccini creano dalle le studenti in tasca si è da tirare fuori al momento scusate quando questa quella è qua il danno devo blocare le vaccinazioni non posso fare una cosa del genere perché ho portato fuori questi dati della cittadini c'è un lotto c'è un lotto di vaccinista di blocchi in sede con forse cose qua non solo per quei dati lì no perché ci sono miliardi di rifusione di danni verso i cittadini quindi per il principio di precauzione io so che quei vaccini non sono sicuri e quindi sul mio territorio non obbligo se qualcuno lo vuole fare lo faccia ma non obbligo i cittadini a farsi i vaccini e poi il blocco 5G il blocco 5G allora un comune un comune introdurre ah beh sì un comune può introdurre il reddito di speranza autonomamente certo ok che era quel discorso prima ma deve avere la possibilità di avere un cespito un cespite da cui trarre e non può erogare la campione quindi in gioco alle scuole del parco gli asili in che modo può erogare i reti di introdurre le scuole ma può per esempio avere una sorgente d'arco minerale è una controllata comunale la maggioranza capitale comunale che i culprometti possono essere utilizzati per mille fini ok il comune può avere anche una centrale elettrica la centrale elettrica ti rende x milioni al mese e il comune fa le opere pubbliche eccetera esistono i paesi ricchissimi proprio che ci hanno sulle albi perché ci hanno una centrale idroelettrica sono pochissime però le convenzioni che ha rilasciato il governo perché non è che poi c'è in comune che c'è in torrente tu qualcuno che vuoi mettere la centrale elettrica non ti permette guarda che Monte San Biagio aveva il suo acquedotto l'acquedotto e tutto poteva essere completamente autosufficiente gli hanno chiuso l'acquedotto adesso non so il caso specifico ma so che stanno facendo quello nonostante il referendum e pagano tantissimo l'acqua immagina a base ma c'erano delinquenti contro è chiaro che noi avremo delle difficoltà su questo non c'è un bel dubbio però intanto gli facciamo vedere che noi riportiamo al tribunale e non avremo nessun problema esattamente come ha fatto Auriti i problemi che avranno loro poi continueranno magari a fare tutti i sovrusi che vogliono compresi l'omicidio tutto è possibile qualcuno ogni tanto sta male gente perfettamente sana infatti ieri muore a porto luigi si no l'altro ieri l'altro ieri beh io ci ho parlato una volta soltanto mi telefonò lui mi sembra attorno al 2005 così 2006 non mi ricordo esattamente tra passati anni però mi ricordo che 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 ce l'aveva a morte con le puttane e voleva fare una campagna contro le puttane che infestavano il paese su vuoto e ce l'aveva con una famiglia di mafiosi che avevano messo a domicilio coatto lì il suo paese stava verso Savona e poi non l'ho più sentito 15 anni fa più o meno infatti quando io ho detto questo paese mi sembra un nome che ci ha sentito poi sono andato a leggere che lui appunto ce l'aveva con le puttane e allora ho ricollegato che poi non sono le puttane cioè c'è chi sta dietro a tutto questo giro infatti ho detto ma boh minimalista al massimo allora le puttane forse nel 2005 2006 avevano una ragione di perché non pagavano le tasse no queste cose qua oggi è il minimo problema quindi c'è tutta la mano dalle tasse e tutto e non si sa quanti pagano le tasse domande allora questo dopo la ritoria ho visto che c'è già il metabolizzare il meccanismo metabolizzare il meccanismo prima stavamo facendo l'esempio di come girano le privilegiate da un'azienda all'altra abbiamo noi abbiamo azienda 1 allora intanto abbiamo il gestore 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 no l'azienda 1 non paga l'azienda 2 ma dal gestore esatto la cambiale che la gira no ne fa un'altra identica fa una nuova all'azienda 2 il motivo è se ho capito bene il fatto di non renderla tassabile certo perché solo quelle non trasferibili sono non pagabili le tasse cioè le tasse nelle cambiali non trasferibili le tasse si pagano obbligatoriamente perché non diventano denaro nel momento della scadenza cioè se sono a 4 anni le tasse si pagheranno a 4 anni ma siccome noi facciamo le cambiali non trasferibili ma rinnovabili che è del tutto legale è una pratica che si trova non trasferibili ma rinnovabili quindi ah ok ok quindi tu la vecchia me la ridai e io cioè io ti ridò la vecchia che tu me la ridai e tu me ne rifai un'altra a 4 anni bene quindi siccome l'azienda tua di fatto non incassa mai sta a cambiare no incassa la cambiare no lei riceve la cambiare la riceve non la incassa allora tu emetti una cambiare a me io prendo la cambiare non trasferibile io metto la cambiare a te in che senso io gestore o io azienda tua azienda io azienda io sono il gestore e metto una cambiare perché dico compro il tuo servizio no compro il servizio dell'altro ma attraverso te ah ok quindi tu sei il gestore non sei l'altra azienda no sono il gestore sono il gestore ok io poi con la stessa cifra della tua cambiare ne metto un'altra lui che è il secondo gestore il secondo la seconda azienda la seconda azienda quando aspetta quando poi scade lui mi telefona mi dice orassio guarda che mi devi mi sta scadendo la cambiare allora io dico guarda ridammi la cambiare vecchia e te ne do un'altra nel frattempo tu fai la stessa operazione ma perché hanno una scalenza queste cambiare certo 4 anni ah ok quindi bene 48 mesi hai capito? ok 48 mesi ha una scalenza sia te che me rinnoviamo le cambiare a lui ogni 4 anni ok tu la rinnovi a me io la rinnovo a lui poi scade lui mi ridà la vecchia me la prendo io ti ridò la vecchia che tu mi hai dato a me e tu me ne fai una nuova io la faccio una nuova avanti e indietro il pendolo avanti e indietro legale e legale è perfettamente legale quello che non è vietato dalla legge è legale è chiaro? se lo fa lo Stato anche quello che è vietato dalla legge è legale cambiano la legge ah no guarda intanto per dirtene una la legge sulla antisismicità delle scuole noi abbiamo fatto una decina di querelle contro le scuole le scuole le scuole le scuole le scuole Grazie a tutti.